Buongiorno e benvenuti a questo convegno. L'opera e l'intrinseco, a me diciamo l'onore di dare il benvenuto. Sono, devo dire, innanzitutto meravigliato, meravigliato che è una giornata particolare, in quanto sapete c'è il Giro d'Italia e noi abbiamo il privilegio, difficoltà di avere delle strutture al centro della città, che è ovviamente un motivo di privilegio, ma quando e se ci sono eventi come questi è un dramma, tant'è che abbiamo un po' il personale amministrativo e anche alcune lezioni, abbiamo dato la possibilità di fare l'accesso remoto, ma nonostante questo, la professoressa Lourdes, Fernandez del Morale, il professor Bocchini e il professor Carleo sono magici e sono in grado di portare avanti non solo il convegno in condizioni di difficoltà, ma anche con una presenza direi assolutamente significativa. Battute a parte, il tema di oggi, che è collegato anche a un PRIN, del quale indegnamente io e il mio gruppo di ricerca facciamo parte, è un tema di assoluto interesse e testimonia una caratteristica, che è quella della contaminazione. Io, tra le varie cose, abbiamo in Ateneo un progetto del Contamination Lab, che ha proprio come obiettivo quello di mettere insieme competenze diverse, profili diversi e devo dire che l'esperienza del nostro Dipartimento, Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, è proprio quella di una fusione efficace tra discipline che per qualche verso sono apparentemente diverse, ma che poi trovano tantissimi motivi di interesse e portano avanti il principio della interdisciplinarità in maniera efficace, tant'è che, insomma, ripeto, questo PRIM ne è testimonianza. Il tema del digitale, leggo il sottotitolo, Mercato Digitale dell'arte e nuove prospettive, ovviamente è un tema di assoluto interesse, ma per un semplice motivo, politiche economiche ormai sono centrate in questo, basta vedere il PNRR, il PNRR ha impegnato il 37% in tutto quanto è la transizione verde, è ben il 20% in digitale, quindi più del 50% su due tematiche che poi sono tra di loro strettamente collegate. È vero questo, ma c'è anche un tema sotteso a questo e, perdonatemi la digressione, ma come Ateneo e come studiosi, ormai tutti siamo fortemente interessati al tema della sostenibilità e il tema del digitale con la sostenibilità può avere dei problemi. Devo dire che è un tema poco studiato, insomma, sto approfondendo nei pochi ritagli di tempo, che ho purtroppo per questo incarico, che ho il privilegio di avere, ma che mi ruba ormai il 90% del mio tempo, e devo dire che studi sull'effetto del digitale così, in maniera massiva, in termini di investimenti, e quello che noi osserviamo normalmente sulla sostenibilità, sono poco noti. C'è un'indagine molto interessante della Commissione europea del 2020-2021, quindi tutto sommato l'ultima significativa su un campione di 17 mila imprese circa, che ci suggerisce che le imprese sono in una fase timida di avvicinamento, soprattutto le piccole e medie imprese, perché poi, come dire, noi dobbiamo fare i conti con quella che è la struttura produttiva del nostro paese e non immaginare di confrontarci con grandi colossi, grandi imprese, che rappresentano certamente fette importanti di mercato, ma la numerosità massiva, diciamo, per il mezzogiorno, ma per l'Italia tutta, sono le piccole e medie imprese. Ebbene, queste, diciamo, solo timidamente, leggo che circa il 20% si sta avvicinando in prima prospettiva ad un approccio digitale in chiave di sostenibilità, quindi un primo approccio sta per farlo, nel 60% hanno già fatto, messo in moto delle azioni e solo percentuali molto piccole sono proiettate su processi di innovazione più spinti, blockchain 3%, ripeto, parlo di dati 20-21, robotica 5-6%, quindi, diciamo, i valori non sono incoraggianti, ma al di là di questo, il tema veramente significativo è un altro. Il digitale richiede, ovviamente, computer, diciamo, sistemi elettronici estremamente sofisticati che richiedono una, diciamo, massiva quantità di elettricità e come la produciamo questa elettricità? Se l'elettricità è prodotta con, diciamo, delle strutture o delle fonti che non creano un problema di inquinamento, bene, se questo non è, diciamo, è il primo problema. Stime, diciamo, non molto piacevoli, devo dire, sul contributo ai gas serra nel tempo, diciamo, negli ultimi anni, almeno negli ultimi 10-15 anni, registrano valori che vanno dall'1% a una stima dell'8,5% 2024-2025, quindi, capite, 1% contributo gas serra particolarmente significativo. Poi c'è il secondo aspetto. Il secondo aspetto è quello che è il digitale, tutta la componentistica, è una componentistica che ha una capacità di sostituzione estremamente elevata. Noi compriamo degli aggeggi che nell'arco di un anno, al massimo, un anno e più, sono obsoleti, quindi passiamo al successivo, quindi produzione, su produzione, e questo crea, diciamo, dei residui. residui che, per la struttura della componentistica, essendo molto piccoli, è difficile fare un meccanismo di rifiuti o un riciclo abbastanza attento, può creare, ovviamente, un effetto in termini di, diciamo, interpretazione o proiezione di sostenibilità. E allora, diciamo, ma noi il digitale che fa, non lo facciamo, il digitale è importante, assolutamente sì, ma attenzione, va fatta ad interpretarlo sempre in una prospettiva di sostenibilità. Ci sono delle soluzioni alternative, quindi non sempre bisogna seguire la regola, diciamo, dell'imprenditore, della massimizzazione del profitto, senza tener conto di, diciamo, aspetti legati ad una, come dire, proficua attività che porta a una produzione efficiente, ma che sia allo stesso tempo sostenibile. Devo dire che questa interpretazione ormai sta cominciando un po' ad essere pervasiva anche nell'ambito del sistema economico e molte imprese, per esempio, vengono favorite sensibilmente anche in competizioni, diciamo, in appalti, in gare, se hanno un approccio nella prospettiva della sostenibilità. E chiaramente poi ai giuristi, a voi giuristi, la capacità di poter interpretare, diciamo, nella regolamentazione anche dei bandi, quelli che sono gli aspetti essenziali a che ciò possa avvenire. Detto questo, io rimarrei volentieri ad ascoltare cose che, diciamo, per, ripeto, l'originalità assoluta in cui vengono presentate mi interessano moltissimo, ma purtroppo la mia vita è complicata e quindi mi sposterò a un convegno che è già cominciato, a Villa Dore d'Angri, quindi un po' di mobilità, dove c'è il presidente dell'INA, e poi c'è un altro alle 11, la vita è bella per tutti. Buon lavoro e grazie, e grazie soprattutto alla professoressa Lourdes Fernandzi del Morale, che è la mia direttrice, quindi devo stare molto attento, sarà pure il rettore, ma lei è sempre la mia direttrice. E chiaramente al professor Bocchini e al professor Carleo, che con il loro dinamismo mi travolgono e trascinano in tutto, il che non è sempre un bene, non è sempre un bene, perché sono terribili, ma approfittano dell'affetto infinito che ho per loro e della mia amicizia per cui, come dire, sono una persona che è in difficoltà, conoscendoli, insomma, e voi li conoscete. Grazie, grazie infinito e buon lavoro. Buongiorno, sono lieta di essere qui oggi per partecipare all'apertura dei lavori di questo interessante e prestigioso convegno e portare a tutti i partecipanti il benvenuto del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, nell'ambito del quale si trova incardinato il proietto di ricerca nazionale in cui si inserisce l'incontro di oggi. Ringrazio gli organizzatori del convegno e a questo proposito non posso non ringraziare in primo luogo il professor Roberto Carleo, che è stata l'anima e il motore che ha spinto la preparazione di questa giornata. Se oggi siamo qui è fondamentalmente per la curiosità e l'entusiasmo che contraddistinguono Roberto Carleo, che riesce a contagiare anche tutti noi che lavoriamo con lui. Infatti l'idea di questo incontro nasce, e io ne sono del Simone, da una conversazione tra Roberto Carleo e Guido Iannuzzi, in cui si alternavano idee, spunti, iniziative, proposte, con un entusiasmo che non poteva non coinvolgermi, anche se ho capito subito che era necessario portare questi due artisti, perché sono tutti e due artisti di arti diversi, se possiamo dire così, con i piedi per terra, altrimenti rischiavamo tutti di finire persi nei meandri del mondo virtuale, del tempo e lo spazio. Fin da subito si è fatta strada l'idea che dovesse trattarsi di un incontro in cui tutti i presenti potessero capire anche visivamente la differenza tra le diverse forme di espressione dell'arte, tra una opera fisica materiale, l'opera NFT e l'opera NNFT. Una volta compresa la distinzione, avremo avuto già la base per poter approfondire le differenze sugli altri livelli in relazione alla titolarità dell'opera, al trattamento giuridico dell'originale e delle copie, al trattamento giuridico del diritto di autore e dei diritti connessi, alla circolazione dell'opera, all'attribuzione del valore economico, ai nuovi mercati dell'arte. Sono davvero tante le questioni che le nuove espressioni dell'arte sollevano. E man mano che l'entusiasmo ci aiutava a imbastire l'incontro da organizzare, emergeva sempre con maggiore intensità l'importanza di coinvolgere prospettive diverse che guardassero la questione da punto di vista diversi, differenti. Era necessario sentire la voce dell'artista che crea l'opera, del filosofo che ci dà la chiave di lettura e dell'evoluzione dell'arte come espressione dell'uomo, dell'ingegnere, dell'economista, dell'esperto in estetica, dell'esperto e dell'operatore del mercato dell'arte, del giurista. Non posso che complimentarmi oggi con Roberto Carleo e con Roberto Bocchini che hanno reso possibile quello che allora sembrava una impresa piuttosto complicata e per averlo fatto superando non poche difficoltà, facendole diventare occasioni e non ostacoli. Come ad esempio, come ha detto il Magnifico, la giornata di oggi con il Giro d'Italia che attraversa Napoli. Diciamo che Roberto Carleo e Roberto Bocchini, non contenti con aver festeggiato lo scudetto del Napoli, hanno voluto offrire a tutti noi la possibilità di assistere a una giornata del Giro d'Italia, cosa che non succede tutti i giorni. L'organizzazione del convegno è stata poi condivisa e alla quale hanno partecipato tante altre persone, che ringrazio lo stesso, tra cui il professor Astolfo D'Amato, direttore della revista Diritto e Economia del Mercato dei Mezzi di Comunicazione, che si occupa da oltre vent'anni di tutti i temi della comunicazione del diritto di autore e che dedicherà un intero numero al tema di questo incontro. Devo ringraziare anche il professor Silvio Martuccelli, Guido Iannuzzi, per il suo prezioso contributo e per aver accettato di condividere con noi l'alestimento delle sue opere e lo sviluppo del progetto PROM. Ringrazio anche il professor Luigi Romano, il professor Luigi Coppolino, il dottor Franco Trubiani, il segretario del Dipartimento, il dottor Nunzio Mandato. Ringrazio le autorità che oggi ci accompagnano e i relatori per la loro partecipazione. Ringrazio anche tutti i presenti per essere qui nonostante tutte le difficoltà della giornata e non voglio rubare più tempo al contenuto sostanziale del convegno per cui non mi resta che augurare a tutti un buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti. Brevissimo accenno a quello che è il percorso di ricerca che noi da anni portiamo avanti all'Università Partenope insieme con tutti i giuristi. Ci riproviamo. Più vicino. No, peggio. Ah, è meglio. Perfetto. Allora. E c'è il rimbombo. Non c'è il rimbombo. Non c'è il problema. No. Sì, ce l'abbiamo fatta. Vi dicevo dei percorsi di ricerca che in realtà hanno diciamo un rapporto sistemico tra di loro. Noi abbiamo un dottorato di ricerca sul diritto dei servizi nell'ordinamento italiano ed europeo. Abbiamo avuto la fortuna di vincere l'ultimo PRIN sulle Eagora, le piattaforme digitali e quindi l'incontro di Erno si pone all'interno di questo percorso scientifico che noi giuristi della Partenope, col professor Carleo, la professoressa Lourdes del Moral Dominguez, la professoressa Gian Petraglia, da tempo portiamo avanti. Oggi è, come ha già detto molto bene il nostro Magnifico, un momento particolare perché unire arte e diritto potrebbe sembrare un'astrusione totale e non lo è perché attraverso il digitale noi impariamo come questi mondi iniziano a fondersi e però la fusione di questi mondi deve poi trovare nelle regole del diritto civile e il motivo per il quale noi siamo qui oggi una disciplina, una normazione nelle regole del diritto pubblico, nelle regole del diritto internazionale perché solamente in questo modo poi questi beni diventano beni della nostra vita reale oppure noi entriamo nei mondi sintetici. E questo in realtà è il primo profilo che i nostri relatori sicuramente analizzeranno, cioè i mondi digitali che nascono in fondo in modo semplice con i videogiochi crescono attraverso i mondi sintetici e si crea un meccanismo di condivisione di informazioni perché alla fine, se vogliamo brevemente sintetizzare, questo BROM può diventare un'informazione. Come queste informazioni che erano asincrone nel mondo di prima diventano nel metaverso delle informazioni sincrone e quindi permettono a tutti noi di entrare nel mondo digitale oppure di astrarre questi beni dal mondo digitale, portarli nel mondo reale e dargli un valore economico. In realtà più dei social network che ormai conducono, TikTok, tutti quegli altri, Facebook e quant'altro, noi abbiamo un mondo nel quale andremo meno. Parliamo di realtà aumentate oppure di realtà virtuali oppure di mixed reality. nel senso che l'ubiquity computing che ormai ci permette di condividere continuamente questi mondi digitali ci porta a dire dobbiamo vivere in una realtà virtuale aumentata o entriamo noi nel mondo sintetico digitale quindi vivendo all'interno di quel mondo e dovendo dare dei valori all'interno di quel mondo perché il punto qual è? Il BROM, l'NFT lo rappresenta benissimo e poi velocemente chiudo. Abbiamo un bene che deve avere un suo valore. Il passaggio iniziale è il token. Il token non è altro che un mattoncino, un gettone come si usa dire nel quale ci sono delle informazioni. e queste informazioni che entrano nel mondo digitale trovano poi una attraverso la blockchain e per questo noi oggi abbiamo gli ingegneri per rendere fruibile a tutti come la blockchain crea il token che diventa quindi un bene del mondo ideale, diciamolo così sintetico questo bene che è un bene quindi online deve diventare un bene online e restare lì o uscire e diventare un bene offline. Si pone c'è un problema di definizione del token e più o meno l'abbiamo ditta ma come noi ben sappiamo secondo l'antico brocardo omni definizio in diura è pericolosa a est in quanto ci sarà un altro giurista che definirà il token in modo diverso. Quel token che entra attraverso la blockchain ci dà poi attraverso lo smart contract perché il meccanismo con il quale noi veicoliamo queste informazioni da un soggetto ad un altro un valore il valore se noi risaliamo brevemente alle teorie o quella lì diciamo di patti risalente del bene o quella lì formalistica dell'ordinamento giuridico il valore viene dato all'interno del nostro ordinamento con la scarsità se un bene è scarso tutti noi sappiamo che assume un valore quindi dobbiamo vedere se possiamo creare la scarsità digitale perché solamente la scarsità digitale attraverso il token, il diritto di seguito e quello che è il valore che ci può essere dato diventa un valore anche nel nostro bene nella nostra vita reale la scarsità digitale e qui ne parlerete molto bene voi sicuramente viene creata attraverso i registri i DLT Distributive Ledger Technology perché se quel token è unico può avere un grande valore se quel token è riproducibile può avere un valore diverso ma anche qui un tema non è assolutamente detto che nel mondo sintetico i valori devono essere dati dai beni che sono pochi scarsi perché si potrebbe invece immaginare che nell'ambito di una democratizzazione generale molti beni sono di tutti e quindi il diritto va verso non la scarsità ma la democratizzazione di tutti questi beni ed è sicuramente un tema altro tema interessante l'opera digitale dell'NFT l'opera è questa qui che noi vediamo e quindi è una rappresentazione digitale di un bene fisico io faccio una copia di Rembrandt o di un Caravaggio o l'opera è creata solo digitalmente all'interno del mondo sintetico del quale noi dobbiamo entrare e quindi resta solamente lì e quindi il token che poi materializza l'opera ha un valore diverso perché in realtà resta all'interno del mondo digitale con il diritto di seguito che il soggetto deve avere e quindi attraverso la blockchain l'unicità del bene e quindi di quella scarsità perché questo è un tema da seguire ad oggi non si discute che quelle poche pronunce di giurisprudenza ci hanno detto che quel diritto nasce come diritto sui beni materiali e quindi come un diritto di proprietà industriale è tutto quello che noi conosciamo e finisco ma il bene ex articolo 810 del nostro codice civile che poi in fondo ci disciplina sono beni le cose che formano oggetto di diritti qual è? nel senso che se noi dobbiamo ricondurre a norme civilistiche la proprietà sul bene noi abbiamo la proprietà di quei bit che sono all'interno del mondo sintetico o la proprietà del token o invece c'è solamente il diritto sul bene materiale o in fondo c'è un servizio come dico io qualche volta criticato cioè io non riesco ad avere il bene attraverso l'adaprenzio fisica immediata ma l'ho mediato attraverso un software attraverso un computer se non ho quelli io non ho il bene e quindi a differenza della mera proprietà industriale dove ovviamente la riproduzione del marchio permette di avere quel diritto astratto e quindi quello che ci dice la teoria formalistica situazioni giuridiche soggettive sul bene noi dobbiamo pensare a un modo di appartenenza giuridica diversa dell'opera digitale nel mondo digitale sintetico perché ho bisogno di qualcuno che quell'opera me la riproduca me la faccia comunque vedere e se un grande Dio mi spingne l'energia come diceva il nostro magnifico prima e mi cancella dal mondo digitale che cammina con l'energia io perdo completamente le opere e ancora di più e chiudo non so quanto tempo vi ho rubato durante i nostri incontri per poter dar vita a questo convegno ci spiegava già l'ingegnere ve lo farà vedere la blockchain e il diritto di seguito su quel determinato bene è dato perché una comunità crede che quella blockchain e quindi quella autografia personalizzazione del bene originalità esista ma se quella comunità tra dieci anni pensa che quel sistema di autenticazione non è più valido rinventa un altro è un po' come se io avessi un caravaggio ma quel caravaggio che io aprò per tutta la vita quando lo porto nel digitale se quella comunità non crede più che l'autenticazione di quel bene fatto con quei bit sia ancora valida il caravaggio sparisce vi ringrazio passo la parola al nostro grande presidente il professor Silvio Martuccelli che guiderà avvenimenti i lavori allora grazie abbiamo aperto con le parole dei padroni di casa e poi chiuderemo con un altro padrone di casa il professor Carleo al quale sono affidate le considerazioni conclusive ma innanzitutto desidero anch'io porgere dei ringraziamenti ringraziamenti all'università Partenope al magnifico rettore al professor Garofalo alla professoressa Fernandez del Moralo al professor Bocchini nonché al professor Carleo proprio per aver organizzato questo incontro di studi in una sede tanto splendida quanto prestigiosa per quanto mi riguarda torno alla Partenope a meno di un mese dall'ultima volta avendo avuto il piacere di intervenire il 14 aprile scorso ad un altro incontro scientifico dedicato al tema dei rapporti tra autonomia privata e regolazione del mercato e devo dire la frequenza delle occasioni scientifiche e la varietà dei temi costituiscono la più virtuosa attestazione della vivacità intellettuale e dell'impegno scientifico del gruppo di colleghi giuristi della Partenope il mio ruolo per oggi è molto più circoscritto quindi lascerò volentieri la parola agli autorevoli colleghi esperti del settore che ringrazio per la loro presenza anche istituzionale e la cortese disponibilità che hanno mostrato nell'accettare l'invito a partecipare il professor Bocchini è già entrato diciamo nei profili giuridici del tema odierno ma io vorrei fare un passo indietro vorrei fare un passo indietro vorrei rubarvi qualche minuto credo ne valga la pena per spiegare le vere ragioni di questo incontro incontro multidisciplinare ma non solo per questo atipico ne abbiamo un indizio qua sul tavolo dei relatori purtroppo però non sono un omaggio dell'autore ai relatori allora l'idea di questo incontro è nata durante una cena di amici una cena di amici raccolti intorno all'artista Guido Iannuzzi fraterno amico di molti di noi il quale dopo aver esposto opere d'arte fisiche in luoghi prestigiosi al Maxi di Roma al Marte di Rovereto nel Tempio di Diana all'interno di Villa Borghese a Roma opere tra l'altro molto ingombranti pensate che l'opera esposta al Maxi al Marte era niente meno che un car armato di dimensioni reali ecco ha annunciato la sua intenzione di rendere la sua ultima opera questa volta di dimensioni ridotte anche un'opera digitale ossia di creare una versione digitale dell'opera ne è nata una accesa discussione una accesa discussione circa il fatto che la perdita di fisicità dell'opera le avrebbe fatto perdere anche la sua unicità e la perdita di unicità avrebbe determinato a sua volta anche il venir meno della sua originalità originale e copia avrebbero così finito per sovrapporsi e coincidere le tecniche della riproduzione digitale dell'opera avrebbero infine portato ad una progressiva quanto ineludibile perdita di valore dell'opera in quanto prodotto artistico e riprodotto digitale sarebbero al fine divenuti la medesima cosa rendendo per definizione impossibile distinguere l'uno dall'altro da qui le poche righe di presentazione del seminario che potete leggere nella locandina da me scritte quasi per scherzo in una chat che quella cena tra amici aveva generato e che sollevavano l'interrogativo circa la necessità o meno di scogitare nuove modalità di attribuzione di valore a un'opera d'arte anche il titolo dell'incontro l'opera e l'estrinseco reca sullo sfondo il tema del valore dell'opera intrinseco ed endogeno oppure estrinseco ed esogeno sia attribuito dall'esterno in fondo questo incontro che coinvolge diverse competenze rega con sé l'interrogativo su quale sia il reale valore di un'opera d'arte allora il discorso principale si ramifica in un fascio di sottodibattiti che necessariamente coinvolgono molti campi del sapere tra loro davvero eterogenei da un lato l'irrompere degli strumenti informatici non fungible token nelle loro innumerevoli funzioni indagabili oltretutto sul piano tecnico ma sul piano anche economico giuridico sociale e dall'altro considerazioni invece di carattere diverso considerazioni storiche filosofiche circa le più autentiche finalità dell'arte la fisicità dell'opera serve solo a solleticare il feticismo di chi si lascia suggestionare dal contatto che l'autore ha avuto con quella tela o con quella scultura il rapporto originale copia è per così dire un elemento essenziale indisgiungibile dall'esistenza stessa di una creazione d'arte oppure è un profilo eventuale accessorio contingente utilizzato strumentalmente al fine della mera attribuzione di maggior valore economico oppure il proprium dell'arte sta appunto nell'idea creativa idea creativa che viene incorporata nell'opera e dunque in quel substrato immateriale che una volta espresso mediante un'opera corporea oppure un'opera incorporale diviene poi patrimonio dell'umanità e dunque si dice la suscettibilità di riproduzione infinita sul piano digitale dell'opera d'arte la svilisce oppure è questa riproduzione infinita a ben vedere assolutamente coerente con le più autentiche finalità dell'arte che quindi lungi dal mortificarne il valore ne esaltano la più nobile funzione di toccare quanti più animi umani possibili generando emozioni e sentimenti insomma tutti interrogativi nessuna certezza nessuna presa di posizione vedremo se riusciremo a uscire da questo incontro con le idee più chiare o come credo il mistero dell'arte ebbene che rimanga tale come tutte le cose misteriose che sono affascinanti proprio perché misteriose e una volta svelate perdono molto del proprio fascino a questo punto darei via ai lavori ripromettendomi di svolgere un mero ruolo di smistatore delle relazioni e lascio la parola per primo al professore Assolfo Diamato direttore della rivista diritto d'economia dei mezzi di comunicazione che oggi ci onora della sua presenza e al quale abbiamo chiesto la cortesia di dare il suo saluto a nome della rivista prego professor Diamato grazie io sono emozionato di essere qui perché trent'anni fa ho insegnato per tre quattro anni a quello che all'epoca era l'istituto Tavale e quindi vedere questa università che è cresciuta così tanto che ha un'immagine esterna la quale è di assoluto prestigio ed una efficienza interna come ho detto da quest'aula esattamente elevata mi fa un grandissimo piacere sul il presidente vi ha detto e vi darò dei saluti nella locandina è scritto che svolgo l'introduzione io mi regolo un po' a metà darò un saluto ma qualcosa da dico anche sulla tema sono presente come direttore della rivista di intercomunia dei mezzi di comunicazione che ha appena compiuto vent'anni che sono tanti e pochi al tempo stesso rispetto ad antiche prestigiose riviste è certamente un tempo minimo se prendiamo però il tema specifico del digitale del mondo virtuale è praticamente vent'anni sono i vent'anni in cui questo mondo si è sviluppato e nel considerare i vent'anni dell'attività della rivista sono andato a vedere i primi numeri e ho letto con stupore che in quei primi numeri scrivevamo che la new economy secondo i dati che aveva gli Stati Uniti valeva nel 2000 2001 circa 5 miliardi di dollari ora in vent'anni che cosa è successo è successo che la sola dimensione del riciclaggio su criptovalute oggi vale secondo il Dipartimento di Stato circa 40 miliardi di dollari quindi rendetevi conto di una esplosione oggi parliamo non è più new economy e parliamo di un'economia nel mondo virtuale che ormai vale migliaia di miliardi di dollari e questo fa parte di una evoluzione straordinaria che riguarda questo mondo ma un po' tutta la tecnologia il che ha interrogato i filosofi e ricordiamoci che c'è Severino il quale affermava che la tecnologia finisce con essere non più uno strumento ma un fine per l'umanità quindi pone dei problemi esistenziali profondi e secondo me pone un problema fondamentale che vediamo anche sul tema specifico che oggi affrontiamo e cioè di fronte a questa evoluzione così rapida ci sono due branche del nostro sapere che sono quello dell'etica e quello del diritto che non ce la fanno stare dietro il problema dell'uomo a mio avviso in questo momento è che non ha gli strumenti né etici né giuridici per poter regolare la propria attività in questi ambiti pensiamo alla biotecnologia la quale ha tantissimo molto di più di quello che si può umanemente immaginare ma ci sono gli strumenti e le regole per poter utilizzare il come utilizzarla in tante circostanze e vediamo veniamo un po' al tema specifico di questo incontro vi sono una serie di problematiche di carattere civilistico la collega Fernandez il collega Pocchini il collega Martuccelli hanno già accennato e quindi non faccio riferimento anche ai problemi di che cos'è l'arte ne ha parlato il professor Martuccelli ma il problema che rispetto al professor Martuccelli parlava di feticcio il feticcio della materialità ma io viceversa lo traduco nella emozione della materialità che è un concetto un po' diverso positivo e allora che cosa succede? L'arte quindi viene a dissociarsi dall'emozione della materialità perché il problema che pone l'arte digitale è questo Bipol Winckelmann il nome ha venduto ad un'asta su crisis per 69 milioni di dollari l'opera i 5.000 giorni ma fateci caso che quell'opera compare negli stessi termini in cui compare sul computer di chi ha comprato il token anche sui nostri schermi è assolutamente identica forse dice qualcuno che magari il file legato a quel token c'è qualche particolare in più però l'opera è la stessa e allora che significa? Che l'arte si riduce al concetto di unicità e se si riduce al concetto di unicità e finisce con essere omologata un po' a tutto perché tutto può essere reso unico c'è il primo tweet che è stato venduto il tweet di Dolce il proprietario di Twitter che è stato venduto a 2 milioni e 600 mila dollari e quale finisce con l'essere il rapporto e quindi c'è un problema di che cos'è l'arte nel momento in cui si verifica un fenomeno del genere è vero che il tema della moltiplicazione a cui accennavo è un tema molto interessato perché se voi ricordate uno degli elementi fondanti dell'attività di Andy Warhol era proprio la riproducibilità infinita delle lattine di pomodoro oppure dell'immagine di Marilyn Monroe però qui finiamo con rendere l'arte completamente staccata dalla fisicità e dall'emozione ce lo riusciamo a immaginare un museo di token eppure noi siamo abituati ad entrare in un museo e vedere quell'opera ed emozionarci a vedere quell'opera proprio perché è stata nelle mani di quel pittore gli altri problemi sono aperti di ordine giuridico oltre quelli di carattere civilistico a cui si è già accennato c'è il problema della territorialità che riguarda tutti i mercati virtuali perché è chiaro che l'arte virtuale si commeccia sui mercati virtuali sui quali c'è un problema di territorialità c'è un gap che si verifica tra la certezza del token certezza granitica che sta nella blockchain e contemporaneamente l'incertezza che riguarda i soggetti perché la blockchain non garantisce l'autenticità del soggetto che ha creato l'opera non garantisce il soggetto che è proprietario il soggetto che acquista quindi si tratta di elementi che dovranno trovare certezza al di fuori della blockchain e quali sono le regole comuni degli NFT ma le regole comuni non ci sono non ci sono per il semplice motivo che gli NFT sono legati alle piattaforme su cui vengono ad essere commerciate e ogni piattaforma ha i suoi algoritmi e gli algoritmi sono regole c'è poco da fare e non devo dire che sono negli perché anche gli algoritmi hanno un'anima e hanno una logica e quindi ecco che ci troviamo di fronte a un mercato il quale non ha mille regole diverse poi vi sono abusi in questo settore rispetto ai quali non ci sono strumenti perché uno degli abusi tipici del settore dell'arte legata ai token è quello che fa sul rinombre di wash trading che cos'è il wash trading è l'influenza sul valore dell'opera d'arte determinata dalle contrattazioni fittizie perché vengono fatte da indirizzi che fanno capo allo stesso soggetto fisico e ma se andiamo a vedere l'articolo 501 501 bis del codice penale parlano di merci si può applicare il concetto di merce all'opera d'arte unica e quindi sorbono problemi di questo genere un altro problema ma è il ruolo degli influencer perché qua ci muoviamo in un mondo nel quale la parola ultima spetta agli influencer e tra l'altro abbiamo letto che quando Chiara Ferragni è andata agli uffici a Firenze ha fatto incrementare le visite di quel museo e come gioca questo ruolo degli influencer su un mercato che dovrebbe essere regolato da altri enti e quindi mi sembra che effettivamente quindi il ringraziamento va non solo per l'ospitalità ma anche per aver pensato un incontro del genere i problemi da affrontare sono tanti sono enormi quindi grazie e buon lavoro grazie grazie al professor Diamato che come al solito ha aggiunto molto alle suggestioni che avevamo già avuto da precedenti relatori ha aggiunto tanti interrogativi l'arte si riduce al concetto di unicità il valore è l'unicità o la scarsità perché se così fosse allora basterebbe ripristinare la scarsità sul piano digitale la creazione d'arte riacquisterebbe immediatamente il proprio valore che senso avrebbe un museo di token a questo punto darei la parola al dottor Guido Stazzi segretario generale dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato che anche lui ci onora della sua partecipazione grazie grazie l'onore il piacere è mio ringrazio l'università partenope per questo invito e anche per le splendide strutture di cui usufruisce che è stata in grado di ripristinare ricordo l'anno scorso un altro convegno a Posillipo in una sede di rappresentanza immagino a una bellissima villa di fronte al mare di Napoli veramente complimenti è un piacere immagino anche insegnare in facoltà e studiare in facoltà del genere ringrazio anche l'amico Guido Iannuzzi che lo ricordo oltre a essere un bravissimo artista 30 anni fa insieme a molti di noi che lavoriamo in antitrust era un giovanissimo funzionario antitrust e ha contribuito a fondare questa istituzione quindi grazie anche per questo Guido il mercato come forma di scambio organizzato di beni nasce nella notte dei tempi qui stiamo parlando di mercato digitale e perché un mercato possa esistere funzionare occorre che qualcuno definisca regoli e tuteli i diritti di proprietà oggi ragioniamo di mercato digitale dell'arte come recita il sottotitolo del nostro convegno e quindi le cose si fanno subito complicate perché la nuova frontiera dell'arte digitale è stato anche accennato da chi mi ha preceduto sono le app di intelligenza artificiale generativa una cosa di cui si parla tantissimo in questo momento basta dare istruzioni anche vaghe fantasiose e incoerenti che l'app in 448 genera un'immagine la prima questione di cui comunque non mi occuperò è l'immagine generata è un'opera d'arte? una constatazione si vedono in giro molte di queste immagini create è curiosa la somiglianza di queste immagini a opere surrealiste e futuriste di inizio novecento questo è una cosa abbastanza particolare e altrettanto curiosamente penso sia utile ricordare che sempre a inizio novecento l'avvento della fotografia generò un dibattito se le immagini copiate dalla realtà tramite le macchine fotografiche che hanno questi stranissimi strumenti inventati allora avrebbero poi in futuro distrutto l'arte pittorica questo fortunatamente non è accaduto e la fotografia è diventata un'arte a sé quindi vediamo appunto poi l'intelligenza generativa dove ci porterà l'intelligenza artificiale sempre da bilanciare anche con la stupidità naturale che spesso poi interviene in tutte queste ricette comunque mi sembra interessante in questa sede dare qualche spunto su come distribuire eventualmente i diritti di proprietà artistica intellettuale di un'opera creata tramite appunto l'intelligenza artificiale generativa intanto il soggetto che dà le istruzioni è sicuramente un protagonista della creazione ma anche l'app che si usa con i suoi algoritmi parte determinante appunto della creazione l'app però può generare le immagini grazie a miliardi di altre immagini di informazioni e dati immagazzinati nei suoi server e quindi anche i titolari i miliardi di titolari di queste immagini informazioni e dati dovrebbero essere renumerati in un'ipotetica catena del valore dell'opera generata artificialmente e qui chiaramente cominciano i problemi perché poi e questo ecco mi muovo in un terreno a me più familiare chi ha i dati in questo momento i dati generati e offerti dalle nostre scie digitali spesso da tutte sappiamo benissimo i meccanismi della profilazione della rilevazione di dati quando giriamo in macchina quando apriamo il nostro computer quando navighiamo su un telefoniamo insomma ormai quando passiamo di fronte a un qualche angolo di strada in cui c'è comunque un rilevatore quando stiamo in casa con i nostri elettrodomestici dotati appunto di intelligenza artificiale quindi ecco tutti questi miliardi di dati che poi vanno a contribuire anche appunto all'arte digitale vengono immagazzinati sono stati nel tempo immagazzinati principalmente con un modello di business che si è rivelato vincente dai big tech come si chiamano big data quindi conosciamo tutti Apple Amazon Meta e tante altre di queste piattaforme digitali che hanno creato degli ecosistemi digitali come si dice cioè dei mondi recintati in cui comunque tutti noi contribuiamo ad offrire poi gratuitamente la benzina cioè i dati loro poi sono stati brevissimi a costruire modelli algoritmici un modello di business per cui le ha resi le imprese più importanti del mondo immaginate che molte di queste aziende fatturano come uno stato il loro prodotto i margini di profitti sono inimmaginabili dal punto di vista proprio della economia tradizionale economia tradizionale che hanno questa è considerata la quarta rivoluzione industriale ogni rivoluzione industriale dalla prima in poi ha modificato e inciso profondamente sugli assetti economici e produttivi e questa effettivamente la rivoluzione dei dati ha avuto un impatto importantissimo e lo ha avuto dall'inizio sui mezzi ad esempio di informazione tradizionale e sulla qualità anche dell'informazione sappiamo che gli organi di stampa tradizionali hanno perso due terzi del loro fatturato due terzi del loro copio e quindi l'intelligenza la preoccupazione di questo mondo ad esempio dell'informazione che è il mondo che anima poi le nostre democrazie almeno nel mondo occidentale è quella che l'intelligenza appunto e la creatività generativa delle app qui stiamo parlando di arte ma le app abbiamo visto le abbiamo conosciute chat gbt e altre in origine creano testi quindi possono tranquillamente sostituirsi in prospettiva possono costruire interi giornali e quindi però governati non più da persone in carne e ossa dai direttori con le loro responsabilità dagli editori ma da un algoritmo da intelligenza artificiale che possono essere lo sappiamo in qualche modo come dire indirizzati su temi particolari e possono poi in qualche modo influenzare tutto il dibattito su queste vicende quindi sicuramente le questioni sono questioni enormi dal punto di vista generale e sicuramente anche l'arte ne viene indirizzata noi che lavoriamo in autorità che devono in qualche modo cercare di regolare il mercato lo facciamo cerchiamo di farlo in modo molto attento però è chiaro che questi mondi sono mondi complicatissimi c'è un problema di rapporti tra potere pubblico e potere privato qui abbiamo molti privatisti è un tema immagino che conoscono molto bene il mondo del big tech per molti anni è sfuggito al potere pubblico che le costituzioni in qualche modo assegnano al Parlamento ai governi ai regolatori perché si sono dati regole private e queste regole è difficile poi ricondurle a un ordinamento pubblico ad esempio ecco un dato che stavo leggendo poco fa che riguarda anche le università l'intelligenza artificiale è nata nei campus universitari all'inizio e nel 2010 solo l'11% appunto degli studi e dei meccanismi dell'intelligenza artificiale erano svolti dai privati quindi vuol dire che circa il 90% erano appannaggio più o meno dell'università poi sicuramente c'erano anche altre istituzioni magari militari o piuttosto che ma comunque istituzioni pubbliche adesso appunto è il 96% in mano privato quindi questo insomma è un dato abbastanza impressionante per cui la tradizionale sede della ricerca che è quella universitaria della ricerca di base eccetera è fuori quasi da tutta questa situazione quindi da una parte è importante organizzare questo tipo di situazioni e di convegni perché bisogna ragionare e i docenti e i direttori dei dipartimenti secondo me fanno benissimo e l'apparteno lo fa spesso invitare a ragionare su queste vicende però è chiaro che bisogna poi stabilire delle regole per cui bisogna un po' ricondurre anche questo tipo di situazioni a una situazione pubblica noi dal nostro punto di vista come autorità antitrust cerchiamo di farlo oggi sulle agenzie di stampa abbiamo avviato un istruttore nei confronti di Apple perché usa diciamo così nei confronti delle proprie app un trattamento di favore rispetto a quelle delle app di terzi quindi come dire sempre per cercare di assicurare anche in questo settore una concorrenza effettiva recentemente avrete visto abbiamo avviato un istruttore anche nei confronti di Meta per la vicenda SIAE la musica e quindi una giusta rinumerazione degli autori nell'ecosistema Meta l'anno scorso abbiamo inflitto una sanzione di 1.2 miliardi ad Amazon per questioni simili quindi come dire le autorità stanno cercando ma questo non solo l'autorità italiana l'autorità europea la commissaria Vestager e molte autorità internazionali l'altro ieri sul New York Times la presidentessa della Federal Trade Commission che è l'antirazzo americana Lina Khan ha scritto devo dire una storia esemplare una donna di 32 anni che solo pochi anni fa scrivendo un articolo sulla sua tesi di dottorato sull'Egliello Journal è diventata la paladina di una una nuova corrente antitrust che come dire con l'obiettivo di ripristinare un controllo pubblico su questo mondo big tech è stata nominata dal presidente Biden giovanissima presidente di questa autorità quindi come dire mi rivolgo anche agli studenti che sono qui studiate queste cose e non ha come dire scrivete e non abbiate paura di osare qualcosa dicevo Lina Khan ha scritto un importante articolo in cui appunto dice che bisogna regolare l'intelligenza artificiale perché sicuramente è una come dire booster di progresso ma comunque le regole sono importanti e le regole fanno parte del vivere democratico della nostra civiltà e questo lo dobbiamo mantenere grazie grazie a dottor Guido Stazzi che ha sollevato una serie di problematiche molto rilevanti legate all'intelligenza artificiale in particolare all'intelligenza artificiale generativa allo statuto di appartenenza dei dati il dato ormai è il bene per eccellenza nella nostra società contemporanea e anche quelle discipline che erano nate come discipline a tutela della privacy ormai sono il GDPR il General Data Protection Regulation è certamente una regolamentazione che ha ad oggetto un bene che va appunto oltre ben oltre la tutela della privacy adesso diamo la parola al dottore Enrico Maria Cotugno vice direttore della direzione tutela dei consumatori dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni prego grazie presidente io ovviamente porto i ringraziamenti della mia istituzione per questo invito ma anche i miei personali perché per me è un onore essere seduti con tanti autorevoli accademici quindi grazie davvero allora io immagino che quando si invita a un tavolo un'autorità amministrativa si cerchino delle risposte concrete perché poi insomma i quesiti giuridici li lasciamo ovviamente a chi ha maggiore competenza di noi allora io cercherò di essere molto concreto e di rispondere a qualche domanda la prima che ruolo può svolgere l'autorità per le comunicazioni rispetto a questo problema degli NFT e soprattutto nell'arte nella tutela del diritto dell'artista ma anche del consumatore allora per rispondere a questa domanda però consentitemi un attimo di scendere nel concreto perché prima si è accennato all'esercizio che altro non facile parlando di non fungible token quindi di qualcosa di virtuale per antonomasia il nostro autore immagino abbia realizzato questi con una stampante 3D no? questi sono fatti a mano ah quindi questi sono già un'opera d'arte non fungibile però per esempio avendo il file sorgente di un'opera d'arte virtuale io posso realizzarne tantissime copie con una stampante 3D allora vedete che quel file è quello che va tutelato cioè quello che ti consente di riprodurre l'opera a differenza della famosa opera i 5000 giorni che tutto sommato è una fotografia quindi io me la posso stampare e farmi il poster a casa magari viene un po' più sgranato nel normale però la posso riprodurre per le opere invece che possono avere una tridimensionalità il discorso è differente lì c'è un file sorgente che va tutelato che si può tutelare tra l'altro anche la copia fatta con la stampante 3D io la posso rendere unica come inserendoci un chip con un EFT un po' quello che succede con i palloni di calcio non so se avete notato che durante le partite a un certo punto inquadrano un pallone che viene messo in un sacco che succede? quello è il pallone che è entrato in rete lì ci applicano un chip con un EFT per certificare che quello è il pallone originale che è entrato in rete e poi lo vendono ovviamente su internet quindi vedete come anche una copia può diventare un bene raro e quindi acquisire valore perché c'è un certificato che ne attesta l'unicità non è il caso di oggi questi sono tutti unici quindi io insieme ai libri mi porto via anche via viso sto scherzando allora qual è il poi il portato di questo esempio concreto qual è il ruolo dell'agicom in questa vicenda e qual è quello che potrebbe essere l'agicom lo dico a beneficio di tanti studenti che devo dire con grande piacere vedo oggi è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è nata nel 97 in origine per regolamentare quelli che erano allora i mercati delle comunicazioni quindi le telecomunicazioni e i media quindi la televisione eccetera eccetera nel corso degli anni però ha assunto sempre maggiori competenze soprattutto nel settore dell'ecosistema digitale cioè ogni qualvolta questi mercati si sono espansi il legislatore ha pensato di attribuire all'agicom il ruolo di come dire di regolamentarli ma anche un fondamentale ruolo giustiziale e di questo poi vi parlerò più approfonditamente cioè il ragionamento che ha fatto il legislatore c'è un'autorità convergente c'è un'autorità che per sua natura è portata a regolamentare questi settori in continua evoluzione quindi quell'autorità può svolgere un ruolo lì dove obiettivamente il legislatore e la giurisdizione ordinaria non riescono a star dietro al progresso allora veniamo all'esempio più recente materia di diritto d'autore voi sapete che il diritto d'autore è regolato ancora dalla legge del 41 quindi una legge firmata da Vittorio Mamone però è stata più volte ovviamente rimaneggiata rinnovata l'ultima volta nel 2021 e sono stati introdotti questi articoli 102 sexy e seguenti che riguardano i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quindi sono queste piattaforme che condividono contenuti su internet rispetto a queste piattaforme è stato previsto che se qualche un soggetto si sente titolare di un diritto d'autore ritiene che quel suo diritto sia stato violato può proporre una segnalazione alla piattaforma cosiddetto meccanismo di notice and take off quindi la piattaforma può rimuovere quel contenuto dopodiché invece chi l'aveva pubblicato può fare ricorso contro questa decisione di rimuovere il contenuto e rispetto alla decisione della piattaforma si può poi ricorrere in Agicom all'autorità per le comunicazioni per risolvere la controversia quindi la legge attribuisce all'Agicom il ruolo di regolamentare poi tutta questa procedura cosa che l'Agicom ha fatto la settimana scorsa quindi non vi posso dare numeri di delibere perché è stato recentissimamente approvato però questo è il meccanismo che poi è un po' il meccanismo anche del Digital Service Act un regolamento europeo che tendenzialmente prova a dare delle regole a tutto il mercato dei servizi digitali anche lì il sistema è più o meno lo stesso solo che è più ampio perché è più ampio il concetto di piattaforme online ed sono più ampi i casi di intervento mentre qui si tratta solo di rimuovere contenuti che vivono nel diritto d'autore secondo la DSA invece si tratta di rimuovere contenuti che vivono la legge o le condizioni di contratto quindi questo diventa anche più interessante dal nostro punto di vista e poi le sanzioni possono essere diverse non solo la rimozione del contenuto ma anche addirittura la sospensione dell'account o l'interruzione della monetizzazione facciamo l'esempio che abbiamo fatto prima io potrei pubblicare perché non so se qualcuno di voi ha mai usato una stampante online una stampante laser la stampante laser funziona con dei file specifici che si trovano su internet ci sono dei siti che pubblicano questi file con i quali io posso stampare questi quello che voglio è ovvio che se io in uno di questi siti pubblico il file sorgente per stampare l'opera di Guido gli annunzi io sto violando un diritto e allora come si ricorre come ci si tutela come vi ho detto ovviamente si fa il passaggio con la piattaforma e poi c'è tutto il meccanismo di reclamo e di risoluzione delle controversie in questo caso il DSA non individua chi sono i soggetti deputati poi a decidere della controversia si parla di organismi di risoluzione alternativa delle controversie quindi ancora una volta si svia dalla giurisdizione ordinaria ma il motivo è ovvio e poi sarà compito del coordinatore dei servizi digitali che va ancora individuato dallo Stato italiano quello di certificare questi organismi o addirittura di individuare un organismo pubblico di risoluzione delle controversie allora vedete come questo argomento della risoluzione delle controversie torna spesso e perché torna spesso perché in un settore in un mercato digitale in un mercato velocissimo in cui gli scambi avvengono in maniera velocissima non ci si può poi far ancorare far zavorrare da poi in caso di che qualcosa vada storto da un sistema di giustiziale che è lento che è paleolitico rispetto al diritto sostanziale e così vengo anche al secondo aspetto sul quale l'aggico può svolgere un ruolo perché fino adesso abbiamo parlato solo degli autori ma non dimentichiamoci che poi ci sono anche i consumatori quelli che potrebbero aver acquistato un token un diritto su quell'opera non so se siete mai andati su uno di questi siti sono tantissimi super rare eccetera eccetera sono dei siti dove tu puoi comprare delle immagini per esempio dei manga lì c'è il numero di quanto è raro quella figurina quanto costa ovviamente si paga si paga in et eternum in bitcoin non bitcoin in moneta in moneta virtuale bitcoin è un altro tipo di moneta virtuale e quindi il consumatore che acquista quella figurina e che poi si accorge quella figurina non è così rara come gli hanno detto che soluzioni ha e in realtà rispetto alla tutela dei consumatori di problemi se ne pongono tantissimi l'ha accennato pure il professor di Amato prima uno dei tanti la giurisdizione applicabile la maggior parte se non tutte le piattaforme che vendono token online hanno sede negli Stati Uniti e i termo views le condizioni di uso fanno espressamente rinvio alla legislazione dello Stato in cui si trovano le piattaforme di solito la California è lo Stato più gettonato diciamo a proposito di token quindi primo problema legge applicabile al contratto noi abbiamo in Europa abbiamo come sapete il regolamento Roma 1 che disciplina il diritto internazionale privato però gli Stati Uniti sfuggono quindi c'è un serio problema già di legislazione applicabile però io sono confidente sul fatto che quando si parla di consumatori poi l'Europa mette sempre la clausola vale il paese dove si trova il consumatore ma altri problemi clausole abusive approfitto della presenza di Guido Stazzi clausole vessatorie che succede rispetto alle clausole vessatorie se c'è una clausola vessatoria come si tutela il consumatore rispetto alla piattaforma che si trova in California trasparenza qui parlando di qualcosa di così complicato addirittura è intrinseco il problema della trasparenza cioè come fai a spiegare a un consumatore cosa sta acquistando quali sono i suoi diritti rispetto a quel token e quindi altro problema ma ripeto problemi ce ne sono tanti tra l'altro tenete presente che questa vicenda dei token è trattata più da un punto di vista finanziario che da un punto di vista diciamo di civilistico sono considerati criptoasset quindi vengono tendenzialmente la la regolamentazione europea li tende a regolamentare da quel punto di vista e allora tornando alla allo spunto iniziale cosa può fare l'agicom rispetto alla tutela dei consumatori allora vi dicevo all'inizio che man mano nel corso degli anni l'autorità per le comunicazioni ha assunto un ruolo sempre più ampio soprattutto dal punto di vista giustiziale allora sin dagli inizi l'autorità ha assunto il compito di risolvere le controversie tra utenti e operatori quindi utenti di servizi di telecomunicazioni adesso di recente si sono aggiunte le controversie rispetto alle piattaforme di streaming da zone netflix eccetera quindi anche per queste controversie attualmente l'utente ha la possibilità di rivolgersi all'agicom e di chiedere la risoluzione della controversia in maniera rapida gratuita ed efficace a breve apriremo anche agli utenti di piattaforme di video sharing TikTok Facebook eccetera eccetera il DSA come vi dicevo prevede le controversie in materia di utenti di piattaforme di condivisione di informazioni quindi un concetto ancora più ampio e lì auspichiamo che ci venga conferita anche questa competenza e questo perché tutte queste controversie noi le gestiamo tramite una piattaforma digitale che si chiama Concilia Web una piattaforma nella quale si entra con lo speed in due secondi si prepara si presenta l'istanza e poi tutto si svolge tramite questa piattaforma e in pochi giorni o in poche settimane si ottiene giustizia che è la cosa più importante allora smettendo il punto di partenza dal quale sono partito vi lascio una domanda e non con una risposta una domanda retorica però ha senso in un mercato come questo dove come ci mostrerà Guido Giannuzzi troppo in pochi minuti posso creare un'opera d'arte fare il mining cioè applicargli un FT renderla unica metterla su internet e venderla io posso fare tutto questo in pochi minuti ha senso ancora che poi se qualcosa fa storto debba ricorrere alla carta bollata grazie grazie a dottor Cotugno che ha sollevato una serie di problemi sulla tutela degli autori e dei proprietari nel mercato dei servizi digitali adesso arriviamo al momento clou della giornata perché vi è la presentazione dell'autore anche io abbiamo l'autore l'artista Guido Iannuzzi che come è stato detto è anche un passato da giurista il quale presenterà la sua opera allora in primo luogo voglio ringraziare l'autorità l'università La Partenove per avermi invitato a questo prestigioso incontro di studi è altissimo il volume qua un attimo sentite? sì e in particolare il professor Roberto Bocchini e il professor Roberto Carleo che sono stati i motori di questa iniziativa dopo questi doverosi ringraziamenti invece vorrei focalizzare la vostra attenzione su questa banconota questa banconota per due ragioni uno legato specificatamente a questa banconota però non voglio svelare queste ragioni subito ve lo dirò più avanti al momento opportuno è uno di carattere più generale che riguarda tutte le banconote tutte le banconote a mio avviso sono la materializzazione dell'estrinseco sono un piccolo pezzo di carta colorato inutile che non serve a niente non so che cosa si può fare privo di valore che acquisiscono valore dall'esterno da noi che glielo diamo quindi la prendiamo questa banconota io voglio darla Silvio la metto da parte poi ne parliamo adesso non parliamo più della banconota invece accentriamo l'attenzione e il focus su questi strani oggetti che popolano il desk del convegno non voglio spiegare vorrei spiegare solo avanti se abbiamo il tempo qual è l'obiettivo dell'opera mi preme più invece spiegare l'obiettivo del progetto Brom e di cosa ha originato il progetto Brom l'obiettivo del progetto Brom gli obiettivi del progetto sono analoghi agli obiettivi che io cerco di raggiungere quando io realizzo delle opere cioè l'obiettivo è di trasmettere emozioni idee pensieri concetti dubbi soprattutto dubbi che è la cosa che mi riesce meglio alla più ampia platea possibile a tutte e a tutti sia ai sedicenti o ai cosiddetti elite sia alle cosiddette non elite e per questa ragione quindi ho realizzato un'opera seriale io non era la mia caratteristica fare opere seriali che appunto questi Brom per quanto riguarda invece appunto l'opera seriale al fine di allargare la platea e di rendere possibile di far sì che un più ampio numero di persone potessero acquistarli per quanto riguarda invece l'origine del progetto nasce da un episodio specifico che è un incontro che ho avuto dopo che io ho avuto la fortuna di esporre alcune opere in posti prestigiosi come accennata prima al professor Martuccelli al Marte al Maxi a Villa Borghese dopo ciò io ho chiesto consiglio a degli esperti specie del mercato dell'arte che mi hanno detto benissimo quello che hai fatto è importante che te esponi in questi posti o in gallerie da noi illuminate che fanno parte del network di un certo tipo di network non fare mai opere o esporre opere in luoghi diversi altri underground assolutamente inutile addirittura dannoso io da bravo bambino ho fatto esattamente il contrario quindi ho fatto un'opera seriale e l'ho presentata una specifica serie a Boghera a Boghera perché? perché c'è un racconto di Alberto Arbasino che parla delle caseringhe di Boghera e da quel momento in poi le caseringhe di Boghera sono considerate l'antimateria della cultura le caseringhe di Boghera non hanno nessun tipo di punzione né intellettuale né culturale e quindi io l'ho presentata al mercato di Boghera e le ho vendute anche a loro questo è il brom fisico poi invece passiamo al brom quello virtuale quello digitale anche qui voler realizzare la versione digitale nasce da una pressante richiesta o suggerimenti o consigli di tantissimi amici che da anni veramente anni continuano a tormentarmi dicendomi il futuro è digitale NFT 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 fai un'opera NFT io non credevo avevo forti pregiudizi nei confronti dell'NFT e adesso che ho studiato ne ho ancora più di prima infatti io ritengo che l'NFT sia nient'altro che un artificio di giuristi di economisti di tecnici per rendere unico ciò che non lo è abbassa è troppo forte ecco prendere unico ciò che non lo è e questo nonostante però questo pregiudizio io ho detto ok facciamo facciamolo io quindi non ho fatto solamente un NFT non ho fatti ben due due NFT uno è utilizzato nel primo lo strumento NFT per uno scopo più tradizionale cioè per certificare che un'opera digitale da me realizzata fosse da me riconosciuta come autore e questo per soddisfare l'esigente di chi più interessato all'estrinseco cioè a coloro che pensano che si possa essere un potenziale valore economico un potenziale valore economico che può esistere solo in capo a chi ha la proprietà dell'opera riconosciuta e poi ho fatto un'altra versione sempre NFT che ho chiamato NNFT la N di negazione dove invece ho usato il sistema della blockchain per certificare in primo luogo che quelle opere quelle da me realizzate con quel nome non sono da me riconosciute come autore e in secondo luogo che quelle opere da me non riconosciute come autore sono però da me riconosciute come identiche a quelle da me riconosciute quindi praticamente l'opera Brom NNFT è identica alla Brom NFT adesso vi forse è il momento di farvela vedere ve le faccio vedere in sequenza prestate attenzione così mi dite le differenze che ci sono fra le due opere adesso invece vediamo il Brom NNFT grazie a tutti Allora, come avete visto non c'è nessuna differenza, è inutile che perdiamo tempo, sono esattamente identici, è solo un problema giuridico, cioè nel senso che uno, come dicevo prima, è certificato da me come autore e l'altro no. Quindi di nuovo conferma dei miei pregiudizi, ma perché non mi piacciono gli NFT? Anche per un altro motivo, io queste due versioni le ho montate e le ho caricate su OpenSea e sono acquistabili sulla piattaforma OpenSea a un prezzo diverso ovviamente, perché una è unica la NFT, l'altra invece sono 5.070 copie. Eppure quando avete prezzato la seconda a un prezzo bassissimo, un dollaro, un euro, in realtà le opere in NFT costano tantissimo all'utente finale, anche quelle che uno vorrebbe tenere economiche, perché ha 70 euro di carico per costi di servizio e altri costeri, quindi sono costose per l'utente che la vuole acquistare, ma anche costose per l'ambiente, perché in realtà per certificare questa opera e per di più poi per altri problemi tecnici dell'Ethereum, sono necessari dei server sparsi per il mondo che sono molto costosi da realizzare, ma ancora più da mantenere inefficienti, ad alto consumo energetico. Per questo ragoggio, anziché fare solo domande, ho cercato di trovare una soluzione, come essere veramente più popolare e raggiungere tutti a un prezzo inferiore. E io ho mutuato una disciplina da un altro settore, da altri settori, altrettanto artistici, che sono quelli della musica e dei film. E quindi ho pensato anziché vendere, io ve l'affitto. E quello che in realtà voi già fate, anche se non vi rendete conto, cioè quando voi scattate la musica su Spotify o acquistate, acquistate, no, vedete un film su Netflix, in realtà state affittando da una piattaforma la possibilità di vedere per un certo periodo o un film o ascoltare una traccia musicale. E fra l'altro da un punto di vista tecnico non c'è nessuna differenza tra una traccia musicale, un file che rappresenta un video o un film. E quindi io per di più ho fatto ancora un ulteriore passo. Io ho utilizzato, ho usato, una volta tanto uso io, YouTube. Ho caricato su YouTube il video e poi do l'accessibilità della visione del video per un certo periodo, solo che mi ha pagato direttamente, ha fatto un bonifico e io una volta che avete fatto il bonifico, io vi posso permettere la visione su YouTube. E questo, tutto ciò, all'insaputo, cioè YouTube non sa niente, il billing è in capo a me. Quindi ho trovato una soluzione ma ho creato infiniti problemi per voi giuristi, mi dovete dire se si può fare e quali problemi ci sono. Però io non sono pago di ciò, quindi vi ho fatto l'NFT, l'NNFT, la versione in affitto, che fra l'altro abbiamo sperimentato direttamente sia con il professor Martuccelli sia con il professor Carleo pochi mesi fa, quindi funziona questo. E ho inventato un'altra versione che è l'anti-NFT o con un acronimo NFN. E qui rientra in gioco la banconota. E qui di nuovo, mi aiuti per favore così lanciamo un altro... Adesso qui dovete sveleremo l'arcano. I video che avete visto fino adesso c'era qualcosa che non avete percepito, che avete visto ma non avete percepito. Io all'interno del video ho inserito un frame, l'immagine di questa banconota, in particolare la parte dove c'è il numero seriale. Quindi all'interno, adesso se lanciamo questa, la slow motion... Questo è il video che stavo vedendo prima. Questo è un slow motion, avete visto, è la banconota. In questa maniera io ho creato qualcosa che concettualmente è un NFT, però è molto più economico, molto più facile, molto meno costoso, non consuma, non c'è bisogno di server e server per metterlo su, ma sto usando la banconota. In realtà solo chi ha realizzato l'opera, quindi sono io, può inserire il frame. E quindi la banconota diventa ciò che dimostra che io sono l'autore, quindi io nel trasferire l'opera originale, trasferisco la banconota e quindi faccio qualcosa di analogo che si fa con l'NFT, io trasferisco l'opera insieme a un certificato digitale che è l'NFT, senza ricorrere a tutto quell'ambaradanti che ho detto sopra. Ma poi c'è un'altra cosa che voglio sottolineare che è fondamentale, che è veramente intrigante, a meno per me. La tecnologia dell'NFT si basa e le considera rivoluzionaria non solo da un punto di vista tecnologico ma da un punto di vista anche politico, di politica economica, perché mentre fino ad oggi la certificazione di certe cose era in capo a istituzioni centrali, c'era un organismo centrale e per di più era un organismo istituzionale o banche centrali che certificava qualche cosa come per esempio la banconota o altri elementi, adesso con la rivoluzione degli NFT c'è stato, sembrerebbe una maggiore libertà perché il compito di certificazione sta in capo a dei registri digitali sparsi sui rete, in capo a dei soggetti non conosciuti e non istituzionali, però tutto ciò funziona solo se viene costituita una rete e dei server che costano tanto e devono essere quindi, per poter essere realizzati e manutenuti, possono essere realizzati solo da imprese private che hanno enormi capitali, quindi non da semplici cittadini, e quindi in realtà c'è stata la traslazione dell'attività di controllo e di certificazione dall'istituzione centrale a questi privati e quindi è una misura iper liberista e la cosa che mi ha colpito è che la denuncia di tutto ciò avviene, quindi denuncia che quindi automaticamente mira a sostenere invece l'importanza delle istituzioni, perché io personalmente ho sempre creduto in istituzioni, ma questa denuncia viene da soggetti che tutto sembra meno essere soggetti che credono in istituzioni, che sono il mondo hacker che ha affermato che è molto meglio che rimangano le istituzioni a certificare ciò che questi soggetti privati e che quindi ci sia questa deriva iper liberista, quindi ho lanciato, quindi questo è un tema fondamentale, importante, tornando a noi quindi, se volete comprare l'opera in realtà nel caso della anti-NFT che poi si chiama NFN perché non è not fungible token ma not fungible note, questa è una banconota, quindi va a finire che la via più semplice è acquistare una banconota che certifica quale di queste miliardi di versioni digitali tutte uguali è riconosciuta da me come mia e quindi da poi commerciabile non so dove ma se ci riuscite bea di voi. Allora proseguiamo i lavori con la preghiera ovviamente a tutti i relatori di circoscrivere il proprio intervento al massimo a 15 minuti, diamo la parola al professor Gambino, ordinario di diritto privato dell'Università Europea di Roma. Allora sì, scusate, allora no, dobbiamo iniziare con il professor Coppolino che è il coordinatore del corso di studi di ingegneria e scienze informatiche per la cyber sicurezza, poi dopo daremo la parola al professor Ainis, poi credo ci sia la professoressa Di Luca collegata, perché il professor Romeo purtroppo non può essere presente e poi proseguiamo sulla base dei nomi indicati in Lodandina. Prego. Allora buongiorno, a me un compito arduo, cioè rendere semplice una cosa complessa, come può essere la tecnologia NFT e tutto quello che c'è dietro. Cercherò ovviamente di non andare nei dettagli tecnici, ma di mettervi in condizione di comprendere i limiti della tecnologia che poi sono quelle che potremmo considerare le cause del problema giuridico che sta dietro gli NFT. quindi parleremo del problema di base, andremo a capire il cambio di approccio da centralizzato a distribuito nel concetto di certificazione della proprietà, la tecnologia che c'è dietro l'uso degli NFT e i limiti della soluzione in termini di quali sono poi i rischi che comporta l'uso degli NFT. Allora il problema di base, indipendentemente dal contesto su cui stiamo operando, il problema è sempre lo stesso, cioè si vuole garantire, consentire ad un individuo di produrre ad una comunità l'evidenza che una certa affermazione è vera, una certa realtà sia vera. Esempi tipici di queste informazioni sono appunto questo oggetto è mio, è di mia proprietà, questo oggetto l'ho fatto io, è stato creato da me o come abbiamo visto prima questo oggetto non l'ho fatto io, non è di mia proprietà. Sono tutte affermazioni di cui vogliamo garantire l'autenticità. Nel modello tradizionale a cui siamo abituati questa garanzia la otteniamo attraverso una terza parte fidata, quella che viene detta terza parte fidata, che tendenzialmente è un'autorità pubblica o comunque un'autorità riconosciuta. Nel caso ad esempio dell'identità di un soggetto, noi siamo abituati ad andare dall'autorità pubblica che ci rilascia un documento che attesta la nostra identità e che verrà riconosciuto come valido perché abbiamo una fiducia sulla terza parte, cioè sull'autorità che ha rilasciato il documento. Nel caso invece distribuito il concetto qual è? Il signor Rossi ha bisogno di certificare la propria identità, quindi costruisce un documento in cui viene associata la sua identità, la sua immagine e trasferisce questo documento su una rete, in una comunità. L'informazione viene ripetuta all'interno della comunità e tutte le parti, tutte le repliche dell'informazione vengono collegate tra di loro in una catena, una chain, tale per cui le modifiche a ciascun pezzo della catena sarebbero immediatamente rilevabili perché renderebbero non valide le copie che sono presenti all'interno della comunità. Per cui cosa succederebbe? Che se ad un certo punto ci fosse un'altra entità che dichiarasse un'informazione diversa da quella originariamente distribuita si troverebbe in minoranza e quindi questa entità sarebbe immediatamente smentibile, sarebbe facile smentire questa diversa realtà. La stessa cosa in un contesto diverso, quello delle transazioni economiche. Nella transazione economica l'informazione che vogliamo proteggere è il trasferimento di una cifra, di una somma economica dal soggetto A al soggetto B e questa garanzia viene fornita normalmente dalla banca, la terza parte fidata, a cui affidiamo l'informazione che il soggetto A ha trasferito al soggetto B un certo ammontare di denaro. Ovviamente se la terza parte non fosse fidata domani potrebbe certificare che l'ammontare trasferito sia minore o maggiore o addirittura nullo. Nel concetto invece distribuito lo stesso lavoro lo farebbe la comunità di nuovo e la comunità lo farebbe in che modo? La transazione viene inserita in un record, il record viene distribuito nella catena di cui prima e le varie copie collegate in modo tale che un'alterazione di una delle copie si tradurrebbe in un'invalidazione dell'intera catena e infine il denaro può essere trasferito all'entità B. Se ovviamente A volesse in qualche maniera smentire di aver trasferito questo denaro e quindi vorrebbe reclamare la proprietà della somma di denaro verrebbe smentito dal fatto che la catena non è alterabile se non creando una nuova copia che sarebbe però in minoranza nella comunità riconosciuta. Ora andiamo al caso degli NFT e quindi al caso delle opere d'arte. Il signor Rossi questa volta vuole dimostrare di essere proprietario di una certa opera d'arte. In prima battuta possiamo pensare un'opera fisica ma in realtà non c'è differenza, poi capiremo il problema resta lo stesso. Quindi cosa succederà? Nel modello tradizionale quello che accadrebbe è che ci sarebbe una terza parte fidata, un notaio che attesta che il signor Rossi ha comprato l'opera X e questo verrebbe certificato attraverso un'evidenza che darebbe la proprietà definitiva dell'opera al signor Rossi, a meno che qualcuno metta in dubbio l'autorità, l'autorevolezza della terza parte. Nel modello distribuito quello che accadrebbe invece è che l'opera d'arte fisica dovrebbe essere digitalizzata, trasformata in un bene digitale, in un file fondamentalmente. Potrebbe essere una scansione, potrebbe essere una fotografia e così via. L'opera d'arte verrebbe poi tradotta in un'entità univocamente associata all'opera digitale, però univocamente associata all'opera digitale ma di dimensioni ridotte. Questa entità prende il nome di hash. È un processo, il processo di hash è un processo digitale, di criptografia, basato su algoritmi criptografici forti che consentono di evitare che un'alterazione dell'immagine digitale risulti non rilevabile. Anzi, qualunque alterazione dell'immagine digitale, anche minima, anche un solo bit, invaliderebbe l'hash associato. Su quest'hash a questo punto possiamo creare il consenso nella comunità. Andiamo a distribuire nella comunità varie evidenze di questo hash che appunto è associato all'opera digitale nel quale andiamo a scrivere che il signor Rossi è proprietario di questa particolare opera. E a questo punto possiamo creare l'NFT, cioè la prova che questa affermazione di proprietà sia stata distribuita nella comunità e riconosciuta come l'opera digitale associata al signor Rossi. Quali sono i limiti di questo processo che abbiamo visto? Il primo limite è di tipo temporale. I vari nodi di questa comunità che abbiamo visto sono volontari, ci sono dei meccanismi di rewarding che consentono di facilitare il fatto che alcuni soggetti partecipino a questa comunità e così via. Ma sono meccanismi temporane, potrebbero nel tempo degradarsi. Per cui la stessa numerosità della comunità nel tempo potrebbe venire meno. Cioè una comunità che oggi è una comunità nutrita, domani potrebbe essere composta da pochi soggetti. In questo caso creare un consenso alternativo a quello realmente certificato, quello reale, sarebbe più facile. Basterebbe trovare un numero di soggetti sufficiente nella nuova comunità, ripetiamo, numerosamente ridotta, per cui trovare un numero sufficiente di soggetti potrebbe essere abbastanza facile, per creare una verità alternativa. In questo caso ci dovremmo chiedere come facciamo a sapere quale delle due verità è appunto la verità. Il secondo limite è nel processo di digitalizzazione. Mentre da un punto di vista tecnologico noi siamo in grado di garantire con una certa fiducia che non c'è la possibilità di passare, di alterare tutta la catena che va dall'elemento digitale fino alla creazione dell'NFT, non esiste però in maniera univoco un modo, una modalità di digitalizzazione dell'entità fisica. Per cui nel momento in cui parto dall'entità fisica e arrivo alla sua copia digitale, non essendoci un unico processo, un unico modo di ottenere questo processo, quello che può succedere è che ad esempio posso avere due entità fisiche che attraverso due procedure di digitalizzazione diverse conducono alla stessa entità digitale e quindi da quel punto in poi allo stesso NFT. Non avremmo modo di dire se l'NFT finale è in realtà associato alla opera 1 o alla opera 2, entrambe sono rappresentate dallo stesso NFT. Il secondo problema è che utilizzando due procedure di digitalizzazione diverse potrei ottenere due copie digitali diverse della stessa opera ed entrambe ricondurrebbero ad un NFT valido, ma avremo più due NFT che affermano cose diverse rispetto all'opera originale. In realtà questa cosa non è legata solo al processo di digitalizzazione, perché lo stesso risultato si potrebbe avere partendo da un'opera digitale, quindi non da digitalizzare, su cui però possiamo operare delle variazioni non impercettibili, come ad esempio il cambio di metadata all'interno di un file o cose del genere, che dal punto di vista dell'opera d'arte non alterano l'immagine che noi vediamo, non alterano l'opera, ma dal punto di vista dell'hash prodotto da quell'opera generano un hash completamente diverso, perché ricordiamoci anche un solo bit cambiato nell'opera originale ci porta ad un hash diverso, quindi in teoria dalla stessa opera potrei fare mille copie tutte diverse, cambiando un bit in ognuna delle copie e per ognuna di queste copie avere un hash e un NFT che è associata a quella particolare copia e sarebbero tutti validi, così come sarebbero validi due NFT sulla stessa opera in due community diverse, non esiste una sola comunità di riferimento, potrei vendere una stessa opera su più comunità con degli NFT diversi e sarebbero tutte validi, questo perché in realtà la vera catena basa la sua fiducia sul fatto che chi garantisce l'univocità dell'opera non è tanto la tecnologia, ma il fatto che qualcuno abbia l'autorità di dire guardate che quest'opera non sarà digitalizzata in altri modi, non sarà venduta su altre community, non sarà alterata e venduta in più copie. Non aggiungo altro, spero di essere stato breve sulla sufficienza. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora dieci interventi e circa 105 minuti a disposizione, quindi dobbiamo limitare gli interventi a direi 12, tra i 12 e i 15 minuti. Allora diamo la parola al professor Michele Ainis, grazie. Silvio, io prometto di stare nei dieci minuti, ma allora io quando ho cominciato a ragionare su questo incontro stimolato da Roberto Carleo e dagli altri amici, in effetti l'esperienza degli NFT è un'esperienza spiazzante, come è più di altre esperienze che derivano dalla realtà virtuale e dal mondo digitale. Perché? Perché parebbe contraddire la differenza tra arti riproducibili e arti non riproducibili, teorizzata da Benjamin nel lontano 1935, lui diceva che alcune arti, la pittura, la scultura, se riprodotte perdono l'aura. L'aura è un attributo che deriva dalla originaria destinazione magica o religiosa del manufatto artistico, attributo che gli conferisce i caratteri di unicità e di inaccessibilità, se non che invece un'immagine realizzata al computer è per definizione riproducibile ed è riproducibile in milioni di esemplari che poi non si distinguono l'uno dall'altro e che tuttavia attraverso gli NFT muovono un mercato colossale. Io ho dato un'occhiata su Google e mi è venuto fuori che nel 2021 questo mercato ha mosso 17 miliardi di dollari, 17,6 miliardi di dollari con un incremento di 21 mila volte rispetto all'anno precedente. Con il picco, come saprete, raggiunto dalla vendita all'asta di un'opera di Bipol che è stata acquistata per 69 milioni di dollari. E poi in secondo luogo questa tecnica è spiazzante perché divarica assolutamente la proprietà e il possesso. C'è un solo proprietario e però chiunque può possedere la sua opera, basta uno screenshot al computer e quindi è come se la casa di cui sono proprietario fosse abitata da milioni di individui. Quindi se acquisto un NFT potrò dire che è mio, tutto qua, che è un po' un esercizio onanistico se volete. Guardate, qui siamo a Napoli. La collezione più importante di quadri di pittori napoletani dell'Ottocento non si trova a Napoli, si trova a Pescara ed è stata durante tutta la sua vita accumulata da un signore, un imprenditore con cui siamo diventati amici, si chiama Venceslao di Persio. Si trova in un palazzo, lui ha fatto una fondazione, un museo pubblico accessibile a tutti dove ci sono opere davvero per milioni, in milioni di euro. E io l'altro giorno gli ditevo, ma tu hai girato per tutta la vita a Aste, in tutto il mondo per acquisire queste opere. Perché? Perché lui mi diceva il mio piacere, il mio desiderio non è tanto di possedere l'opera quanto che non la possiedano gli altri. E il collezionista è questo. E però come mi torna rispetto agli NFT? Perché chi lo acquista possiede un certificato, non possiede altro che un certificato. Insomma, ora poi questi sono temi da lasciare alla competenza dei critici d'art, forse degli psichiatri, non lo so bene. ci sono poi i nodi del diritto, i dubbi del diritto, che hanno a che fare con le regole e anche con le regole costituzionali. Ora, nella locandina di questo incontro fa Capolino una domanda. Quale priorità tra obiettivi economici e obiettivi culturali? Ora, se priorità dovesse significare l'azzeramento dell'uno o dell'altro, cioè se uno dei due valori, valore economico e valore culturale, schiacciasse interamente l'altro, lo azzerasse, lo annullasse, allora si aprirebbe la strada a quella che Carl Schmitt chiamava la tirannia dei valori. L'esempio che si può fare, si fa di solito, la fedeltà coniugale. È un valore, non molto praticato, però c'è scolpito nell'articolo 143 del codice civile, ma per affermare questo valore io non posso lapidare l'adultera come accade in Sudan o in altri posti. Devo quindi trovare un bilanciamento. Il bilanciamento in questo caso, a me pare, passa attraverso un concetto, una parola che è la valorizzazione del bene culturale. Cioè la valorizzazione è la cerniera tra le ragioni del profitto e le ragioni dell'esperienza artistica. Allora che cos'è la valorizzazione? Lo dico qui, ci sono dei ragazzi, degli studenti. È una parola che si affaccia nel nostro ordinamento quando viene istituito da Spadolini il Ministero dei Beni Culturali, affidandogli il compito di valorizzare il nostro patrimonio artistico, ma in realtà la cosa c'era già, perché il concetto è figlio dell'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, dice questa norma che è stata di recente resa più astrusa con un intervento di modifica. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che occorre favorire il godimento pubblico dei beni culturali, che occorre cioè metterli al servizio dello sviluppo intellettuale di ciascun individuo, la cultura come strumento di emancipazione. Questo quindi significa evocare la maggiore fruizione dei beni culturali. Valorizzando i beni culturali se ne assicura la migliore fruizione. La Corte Costituzionale ha cominciato a dirlo nel 2004 e l'ha più volte ripetuto. Però la maggiore fruizione dei beni culturali ne incrementa allo stesso tempo il valore economico. Se estendo il pubblico dei visitatori di un museo, assicuro a quel museo maggiori entrate finanziarie ed è lo sforzo con cui poi si misurano tutte le istituzioni culturali e anche un po' la finalità di tutti gli interventi legislativi degli ultimi decenni, anche se qualche volta poi il perseguimento del profitto va un po' a scapito delle ragioni più squisitamente culturali. E allora qui si affaccia un altro attributo dei beni culturali che è la pubblicità. Diceva un illustre amministrativista Massimo Severo Giannini, il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza ma in quanto bene di fruizione. Perché ogni opera d'arte, in genere ogni bene culturale è per sua vocazione destinato alla generalità dei cittadini e da qui anche deriva la compressione dei poteri rispettanti al proprietario, quantomeno se il bene viene sottoposto a un vincolo tant'è che un altro amministrativista, Fabio Merusi, una volta ha detto che la proprietà dei beni culturali è una disgrazia costituzionalmente sancita perché se tu c'hai il vincolo una serie di cose non le puoi più fare. Ora la pubblicità, la fruizione pubblica del bene culturale viene garantita per definizione dagli NFT, non c'è bisogno che il ministero apponga un vincolo, il vincolo è fisiologico, è la natura stessa dei not fungible token che li rende come c'è un solo proprietario, ma sono poi in realtà tutti, sono di tutti, tutti sono i proprietari, così come gli NFT espongono mi pare con la massima evidenza un altro attributo dei beni culturali che è la immaterialità. A metà degli anni 70 Sabino Cassese scriveva questo la ricostruzione dei beni culturali è tutta svolta con l'occhio alle cose che siano beni culturali. Al fondo della concezione c'è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale e allora lui concludeva tutto questo lascia in ombra, lascia fuori diciamo anche dalla tutele, i beni culturali che consistono di elementi materiali o immateriali indifferenti per il diritto interprivato, di diritti di libertà, di mere attività. Allora Cassese si riferiva alle cosiddette attività culturali, cioè alla qualità di bene culturale di un'opera teatrale, di un'opera musicale, però insomma se ci pensiamo in realtà l'immaterialità si accompagna a qualunque bene culturale, a qualunque opera d'arte, nel senso che il valore dell'opera d'arte non si esaurisce affatto nel valore della cosa materiale che può essere la tela, può essere il marmo, può essere la tavola che l'artista usa per crearla, quell'opera d'arte. E negli NFT che sono delle immagini virtuali, cioè sono dei segni che galleggiano sullo schermo di un computer, l'immaterialità del bene culturale e mi pare raggiunge la massima espansione. Allora questo che significa? Immaterialità, valorizzazione, pubblicità sono i tre attributi costituzionali dei beni culturali e sono anche gli specifici attributi degli NFT. E quindi questo vuol dire che la tecnologia si è messa al servizio della Costituzione, di quel valore promesso dalla Costituzione, della promozione culturale, può darsi, così come può darsi che i social network, anzi sicuramente così, potenziano come mai è accaduto in passato la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di informazione che garantisce l'articolo 21 della Costituzione, però attenzione, però attenzione, perché sui social la libertà spesso degenera in arbitrio e l'informazione produce in realtà delle fake, delle fake news. E questa è l'alternativa a cui ci sottopone ogni avanzamento della scienza, perché l'energia nucleare può illuminare le città, però può anche distruggerle. I greci avevano una parola per illustrare questo concetto, farmacon, ciò che salva ma anche ciò che si distrugge. D'altra parte un farmacon medicinale ha poi una quantità di controindicazioni che se ti leggi il bugiardino non te lo prendi più. Allora io penso questo in conclusione, non ho una risposta, però ho magari un dubbio, una domanda. Cioè se il successo degli NFT sancisse in definitiva e alla fine della giostra il trionfo del falso sull'originale, allora mi pare che lo sviluppo culturale di cui parla l'articolo 9 della Costituzione non verrebbe promosso ma verrebbe depresso. Tutto qui, grazie. Grazie professor Rainis. A questo punto darei la parola alla professoressa De Luca se è collegata. Sì, sono collegata. Benissimo, grazie professoressa. Può parlare. Voi, buongiorno a tutti. Mi dispiace molto non essere fisicamente presente a questo incontro ma gli eventi sportivi rendevano quanto mai complicato poter essere arrivati a Napoli. Sono molto contenta di parte e ringrazio molto gli organizzatori per questo invito di partecipare a questo convegno, a questa giornata di studi perché mi pare che sia un'iniziativa che si muova ma nel senso degli effetti, quindi dell'elaborazione degli effetti prodotti dalla rivoluzione digitale. Una rivoluzione per la quale si sono consumati saperi, metodi, concetti che hanno finora guidato la nostra visione del mondo, il nostro dare conto del nostro essere al mondo. E credo che a questo punto la cosa, per dirla con Nietzsche, la cosa necessaria è dare nuovi nomi alle cose per cose che mai sono state. E allora come agire? Quali sono le strategie teoriche che è necessario mettere in campo? Non credo che basti fare riferimento soltanto all'interdisciplinarietà, ma in questo senso la giornata di oggi mi pare quanto mai esemplare perché si tratta di mettere in movimento saperi, linguaggi eterogeneri e far sì che dal movimento che se ne produce si dia luogo, affiorino configurazioni di sapere assolutamente inedite. configurazioni di sapere che consentano quel passaggio, secondo me, essenziale e necessario dal pensare digitale al pensare nel digitale. Cioè quello che ci diventa in questo momento è compito di chi lavora nelle istituzioni di ricerca e di formazione direi proprio quello di dare vita a un pensiero digitale e allora affrontare i problemi, le questioni che oggi sono sul tappeto non significa dal mio punto di vista di studiosa, di estetica, ritagliarmi una tessera, ritagliarmi uno spazio a partire dal quale ripensare questi termini, i termini in questione, darei autore, opera, fruizione e aggiungerei esperienza estetica. Ma quello che mi pare fruttuoso è farmi reagire, a partire da una prospettiva estetologica, con tutto ciò che è stato messo in campo da altre voci e da altre competenze. Dicevo, e allora, che cosa significa ripensare opera, autore, fruizione, muovendo dagli NFT? Che cosa hanno, quale scombussolamento hanno prodotto? Beh, una prima cosa che segnalerei è questa inscindibilità, potremmo dire, questa sorta di identificazione fra opera e autore. L'opera vale perché ne è attestata, attraverso le procedure che abbiamo finora visto così bene illustrate, ne è attestata una proprietà. La proprietà è la proprietà dell'autore. Quindi è questa proprietà che dà valore. E qui l'artisticità, per così dire, è sostituita da questa, per certi versi, ombrata, da questa affermazione di possesso, da questa marcatura che è la marcatura propria dell'autore. E capite che in questo, naturalmente, qua stiamo segnando un passaggio non da poco a quella che è stata tutta una linea di pensiero non recentesca, vale a dire l'autonomia dell'opera e di quell'esperienza di pensiero che avveniva nell'opera e come opera. Ma qui, quindi, vediamo sostituire a questo, erano, sono problemi che nella relazione che mi ha preceduto agli anni essi sono stati molto bene già posti e con un assolutamente irrevocabile necessario riferimento a un autore come Benjamin. e proprio vorrei qui verificare questo scatto, un movimento complesso di scatto, differenza e identificazione con alcune questioni beniaminiane, in senso stretto. Quindi, si afferma la proprietà di un'opera ed è questa proprietà che viene ceduta attraverso una transizione. E ciò che stabilisce il godimento dell'opera è esattamente il possederla. In questo caso sarebbe molto interessante, ma non ce n'è lo spazio, per potersi interrogare su in che maniera il digitale diventa una poetica, possa essere pensata come una poetica. Ma in questo caso stiamo pensando a un'opera che è fatta, prodotta da un artista. E quindi ciò che dà valore è l'essere fatta, è l'essere prodotta. Ma a questo punto si disdice una delle ipotesi beniaminiane, il tempo della tecnica, come tempo della infinita riproducibilità dell'opera. L'opera può essere fruita, ma non può essere assolutamente riprodotta. E qui che, anche questo è un tema sul cui la ministra ha fatto prima scenno, questo riporta, ma lo riporta secondo me con un senso assolutamente diverso per certi versi, perché è ancora il possesso ad attivarlo. Riporta in augeo i due termini beniaminiani. Aura, e quindi questo farsi presente di una lontananza per quando vicina possa essere. Beh, la lontananza è data da un possesso irrevocabile. Dall'altra parte, il valore cultuale. Certo, il valore cultuale è dato da questa irraggiungibilità per un verso, ma per l'altro verso, per chi possiede l'opera, da questa sorta di immersione, e io sono, la possiedo, sono tutt'uno quell'opera. C'è un'enfasi del mio, quello che si viene ad affermare, che a me pare, crea i problemi, per usare un termine aigheriano, quello che aigher chiamava l'enfaring dell'opera. Vale a dire, quell'esperienza che diventa spostamento in altro, un'apertura di mondo che slarga la trama stessa del mondo. Questo ricalcare il io diventa, apre, se volete, a una sorta di godimento autistico e di funzione autistica. Ma che cosa accade quando invece l'NFT è a sua volta riproduzione? Lo può essere del Vesuvio, la può essere di una immagine qualsiasi, una sequenza del Giro d'Italia che sta per accadere. quella, e allora qui assistiamo a un altro processo. Il riproducibile è una riproduzione. Io vedo agire in questo caso, direi qualcosa che rimanda al gesto di Lucham, fa sì che strappare l'oggetto dalla trama di un uso quotidiano per consegnarlo a una sorta di ostensione che lo restituisce al suo essere cosa. Cioè, cosa, quindi nel gesto di Luchamp c'è questa forte critica alla mercificazione della cosa, quindi restituirlo al suo essere cosa contro l'essere merce. Ma qui però assistiamo a esattamente un movimento inverso. Io possiedo, ed è irripetibile, un qualcosa che sarebbe altrimenti non mai possedibile. possiedo, possiedo quell'immagine del Vesuvio, possiedo quella sequenza di una partita di calcio, tutto questo è irrevocabilmente solo e soltanto io. Quindi c'è un godimento dell'opera che passa per questa sorta, per l'avere diritto, per questa proprietà, per questo possesso, per questa appartenenza irrevocabile. E quindi quello che si viene in qualche modo qui a creare potrebbe dire una sorta di mostrum estetico, perché abbiamo, si gioca insieme, per dirla con me, valore cultuale e valore espositivo, che trovano una singolare forma di intreccio, se l'opera è educazione al non possesso, l'opera qui è infasi del possesso. E questo mostrum estetico che si viene qui a creare, a mio giudizio, si produce per questo trapianto su un terreno assolutamente inedito, il digitale, di lemmi, concetti, questioni, che mancano alla base di una rielaborazione alla luce del digitale. E quindi quello che si produce è una figura ibrida fatta di parti diverse e non opportunamente rielaborate. Allora io credo che il passo da fare è entrare in un lavoro di profonda e pericace elaborazione e anche proprio da un punto di vista teorico. Penso per esempio al metaverso. Ecco, pensare il metaverso non come realtà altra, dissociata, altro mondo, ma altro del mondo. Cioè pensarlo nel senso di una realtà aumentata che apre nel mondo spazi di mondo. E qui naturalmente l'opera gioca, può giocare un ruolo assolutamente essenziale in quanto apertura di latenza in un mondo, far essere ciò che nel mondo è silente. L'autore. Beh, io credo che una riflessione sull'artista non possa essere dissociabile su una riflessione su che cosa oggi possiamo intendere per umano. Umano, io credo che vada a pensare come tutta una letteratura al riguardo ci sostiene, come un plesso mobile, precario, in continuo mutamento, in continuo divenire, che diviene tale in un rapporto indecibibile e sempre più raffinato con l'artificiale. Quindi un umano diffuso potrei dire un umano inteso come il molteplice e quindi l'artista a sua volta come il molteplice e allora cosa può essere? Qual è? Come va inteso? Un processo di creazione? Beh, creazione come l'agire proprio di un molteplice in cui le tecnologie non sono cedimento di prestazioni creative ma sono accesso a una creatività multipla diffusa molteplice. Ecco, grazie e con questo chiudo spero di essere stata l'eterno. Grazie alla professoressa De Luca e adesso dalla estetica e filosofia delle arti passiamo la parola ai giuristi al diritto privato e quindi prima il professore Alberto Gambino per il diritto civile e poi il professor Maurizio Unza per il diritto commerciale. Prego professor Gambino. Grazie è sempre un piacere stare qui con voi nella quella che è stata la mia prima università e quindi in questo senso il piacere è doppio. non facciamoci il retire dalle tecnologie mi rivolgo anche agli studenti già in fondo il diritto d'autore ha una caratteristica che non dà titoli di appartenenza alle opere con una certificazione questo è fondamentale avere la mente perché le opere autoriale sono opere non titolate è stato ben detto l'atto creativo è suscettibile di essere provato con prova libera e quindi possiamo blindare con l'NFT tutto quello che vogliamo ma non dimostriamo che siamo autori di ciò che abbiamo blindato questo se non lo sia presente si crea una narrazione di un diritto che non esiste come se la tecnologia potesse sostituirsi a un certificatore che per scelta normativa non c'è anche quando noi depositiamo presso il ministero dei beni culturali le nostre opere non fa fede quella certificazione al massimo può dare una data storica che io sono arrivato prima di un altro e quindi un domani il magistrato può dire che Gambino ha registrato nel 2003 e quindi ma non che se c'è uno che nel 2002 riesce a dimostrarmi che invece quell'opera l'aveva scritta per primo lui allora prevale quella mia del 2003 questa è tutta la dinamica della proprietà industriale che è un'altra cosa che sono i brevetti sono i marchi invece nell'ambito del diritto dottore non c'è quella dinamica e allora se non c'è quella dinamica qui c'è una certa confusione fra l'imputazione di una fattispecie dichiarativa e il contenuto di quella fattispecie dichiarativa laddove sembrerebbe che basta la dichiarazione per rendere autentico anche il contenuto di quella fattispecie dichiarativa è una confusione che lo dico agli studenti da matita blu subito da espungere dalla narrazione pseudo-giuridica meta-giuridica che ne fanno i tecnocrati non significa che se io attraverso la tecnologia riesco comunque perché c'è la fattispecie della firma digitale elettronica perché poi la filiera nft è sempre quello non c'è nulla di nuovo nel 1997 prima ancora del legislatore europeo i numeri uno siamo stati noi italiani che abbiamo scritto le prime norme sulla firma digitale perché perché le scrissero i notai perché avevano paura di essere tagliati fuori dal mercato delle autenticazioni e soprattutto dell'atto pubblico e quindi siccome sono molto bravi sono molto ferrati sono qualitativamente tra le categorie giuridiche più diciamo così attrezzate hanno compartecipato insieme al legislatore alla redazione quelle norme hanno preservato l'atto pubblico dicendo certo che lo possiamo fare per via telematica ma certo ma in presenza con i testimoni con chi fa la dichiarazione col notare poi dopo facciamo tutto online ma ci vuole la presenza fisica e quindi hanno salvaguardato il loro ruolo appunto di certificatori potremmo dire quella fattispecie della firma elettronica firma digitale italiana che diventa firma elettronica è esattamente l'NFT non è niente di nuovo cioè una sorta di autenticazione elettronica che viene imputata una dichiarazione ad un certo soggetto e quindi quelle sono tutte dichiarazioni io sto dichiarando che quell'opera è mia perché ma che sia sua ma non è vero per niente può essere tranquillamente ribaltato in un nanosecondo il magistrato non si farà irritire dall'NFT e ci mancherebbe altro perché la norma oggi prevede che siano opere non titolate cioè non c'è un certificatore pubblico che invece diventa elemento costitutivo dell'autenticità dell'opera tant'è vero nella nostra giurisprudenza sono dei casi simpaticissimi dove addirittura l'artista ha riconosciuto dei falsi e quindi l'artista riconosce falsi riguardo dalle sue opere e secondo il meccanismo dell'NFT a questo punto dovrebbero essere opere sue ma manco per niente la giurisprudenza ha detto no restano falsi non basta la dichiarazione dell'artista che dice questi li ho fatti io e quindi cosa di più certo c'è dell'artista che riconosce la sua opera ma se storicamente quell'opera non l'ha fatta lui rimane un'opera fatta da un suo allievo da un suo seguace da un soggetto terzo e quindi quell'opera non appartiene da un punto di vista della paternità dell'opera all'artista famoso non ce la fa a riconoscere con l'NFT sembrerebbe che si vuole invece in qualche modo demolire questo sistema per questo non fatevi ritire perché non è questa la dinamica del diritto è altro dopodiché che da un punto di vista economico di efficienza di sistema per quieto vivere una volta che io vado a registrarmi con l'NFT un'opera e chi la affronta il contenzioso ci sono i costi ci sono anche un tema seriale infatti suggerisco sempre a chi è davvero titolare di quell'opera comunque per sicurezza valla anche a registrare con un NFT perché da un punto di vista strettamente economico invece ci può essere un valore ma potremmo dire è come se io l'effigie di una di Osimè quindi di un personaggio me lo metto nel mio portafoglio non è che ovviamente è mio ma se quel portafoglio invece è il portafoglio che so di Elon Musk e beh è interessante perché diventa un elemento di una personalità che se ce l'ha nel suo portafoglio vuol dire che vale e in fondo l'NFT segue questa dinamica di mercato dipende chi è il compratore dipende chi è il venditore dipende chi è che ha creato quel plafond di NFT perché suscita spesso in una cerchia di notabili diciamo multimiliardari del mondo una corsa a rialzo a dire che quello non è tanto autentico o non autentico quanto è quello che è posseduto in modo autentico grazie alla fattispecie dichiarativa da un certo soggetto e quindi a quel punto ci possono essere due o tre anni che assume valore per il semplice fatto che appunto è il pallone con cui si è giocata quella partita questa è la dinamica oggi dell'NFT allora da questo punto di vista io ritengo molto più interessante ci sono delle parole molto belle che in qualche modo fanno un po' capire i passaggi il feticcio poi è stato detto l'emozione oggi diciamo l'esperienza perché ormai il tema autoriale è legato all'esperienza pensate a quelle opere che si autodistruggono sul momento e quella è un'esperienza poi non c'è più l'opera è scomparsa è coperta dal diritto d'autore o non è coperta dal diritto d'autore è opera d'autore o no chi dice questa esperienza magari anche immersiva ritiene che quella è degna di essere ritenuta opera d'autore dopodiché come circola può circolare l'NFT con la rappresentazione ma non significa ovviamente che quell'esperienza è imputabile a questo punto a chi fa circolare la riproduzione di quel momento in cui l'opera si distrugge sotto gli occhi degli avventori sono solo i fruitori di quel momento che hanno provato quell'esperienza sono solo loro che l'hanno provata quell'esperienza l'altra è una riproduzione dove l'autore esce di scena mi sembra per esempio molto interessante la prospettiva oggi di capire se anche un altro senso il gusto eh la cucina d'autore il chef e oggi c'è un tema interessantissimo in quella prospettiva se può essere coperta dal diritto d'autore le ricette no si dice le ricette ci mancherebbe altro dovremmo pagare per cucinare ma già l'impiantamento e quando il piatto diventa composto potrebbe avere invece una sua eh autoralità ma anche il brevetto quando c'è una tecnica riproduttiva in quel caso addirittura il marchio il brand qui infatti io vedo l'NFT qualcosa di più simile al marchio al brand al fatto che diventa una composizione un design che a quel punto poi lo apponiamo dove vogliamo ma me lo sono registrato come marchio quindi questo è il mio suggerimento forse già l'ha fatto ovviamente perché da fine giurista ho capito lei è ha capito subito qual è la prospettiva della proprietà industriale non il diritto d'autore ma il marchio perché quello sì è opera titolata e c'è il regista e c'è un ufficio presso il ministero che invece dà titolo giuridico è mica facile a quel punto di sinnescare che il marchio questo è il business vero che poi è anche potremmo dire più coerente perché contraddistingue uno stile contraddistingue una fisionomia anche estetica legata anche a una sua potremmo dire industrialità perché a quel punto può essere apposto anche a una miriade di esemplari che vengono a quel punto trasferiti hanno un valore soprattutto rispetto al brand e questo è un po' il tema che potrebbe essere dato come suggerimento in buona sostanza un conto è l'imputazione della dichiarazione e certamente l'NFT può surrogarsi alle modalità tradizionali della firma autografa perché c'è la funzione di Ash che ritenuta dal legislatore europeo e dal legislatore italiano sostanzialmente equivalente alla firma autografa salvo poi i temi del disconoscimento la guerra di falso ma quello è un dibattito più per addetti ai lavori allora quello può dare una paternità della dichiarazione ma non la paternità autenticata dell'opera dichiarata altro è la certificazione di autenticità del contenuto della dichiarazione la certificazione di autenticità del contenuto della dichiarazione e altro rispetto all'imputazione della dichiarazione questo è un po' l'ABC per i giovani studiosi giù in fondo perché se si appresenta questa distinzione allora non ci facciamo il ritire dagli NFT capiamo che siamo dentro un'imputazione di dichiarazione i cui contenuti possono essere liberi posso scrivere tutto e anche il contrario di tutto proprio perché non vado ad acclarare che ciò che è contenuto è pubblicamente certificato fa pubblica fede non lo fa perché in realtà rimane sempre una dichiarazione privata tanto più che ci è stato detto da l'esperto informatico che poi queste comunità possono avere anche dei bachi al loro interno potrebbero cambiare quindi pensate quanto sarebbe insidioso se uno si affidasse a quella sorta di autenticità della maggioranza degli snodi perché a quel punto ci sarebbe una verità tecnologica che non coincide con la verità storica e invece il legislatore che ha scritto le norme sul diritto autore vuole la verità storica non quella tecnologica ovviamente perché con la verità storica si riconosce non solo il diritto patrimoniale che poi muore dopo un po' di anni ma quello morale e quello morale facciamo attenzione non è solo la paternità dell'opera che è scontato ma anche l'integrità dell'opera che è stata dimenticata nelle tecnologie perché il diritto all'integrità dell'opera è diritto morale inalienabile imprescrittibile neanche gli eredi possono modificare l'integrità di un'opera che era stata pensata concepita e realizzata così dal totore possono fare qualcosa hanno dei limiti ma non possono ovviamente stravolgere quell'opera e questo fa capire perché sono opere non titolate perché sono opere che poi sono senza tempo legate in fondo a una fruizione che potrebbe andare avanti nei millenni pensate se invece si ritenesse esclusiva attraverso la tecnologia morirebbe anche la fattispecie generativa della integrità e della paternità ovviamente cosa che non può assolutamente essere non è contendibile non è contendibile non può essere appropriata la paternità attraverso una tecnologia ma neanche attraverso un contratto neanche attraverso un contratto io non posso cedere la paternità dell'opera non si può cedere è inalienabile è come cedere un pezzo vitale del corpo umano non si può fare è contro l'egge questi sono cenni di metodo che mi permetto di suggerire proprio perché è stato detto una platea un po' variegata dove ci sono relatori di saperi diversi e quindi io do questo apporto vi ringrazio grazie davvero al professor Gambino e adesso la parola al professor Maurizio Onza prego grazie presidente e grazie agli organizzatori per il mio consentito di partecipare a un incontro così stimolante proverò a condividere con voi qualche riflessione sugli NFT in particolare su cosa sono giuridicamente gli NFT perché ci troviamo di fronte a una situazione nella quale il formante dottrinale è diffuso manca sostanzialmente il formante giurisprudenziale mentre il formante legale è scarso da un lato e dall'altro è in via di un progressivo ma lento assestamento con progressioni rare appunto e soste molto lunghe e allora questo perché ma perché in fondo la tecnica corre più velocemente della produzione normativa che è produzione affidata alla lentezza della mediazione non solo tra persone maggioranze minoranze e operatori ma massimamente nel diritto armonizzato anche tra stati dunque cosa sono giuridicamente gli NFT per rispondere provare a rispondere a questa domanda dovremmo individuare una fattispecie che possa fungere da modello al quale ragguagliare il caso concreto per poi applicare la conseguente disciplina cioè applicare quel modello di governo dei conflitti di interessi mobilitati da comportamenti di persone che affida appunto alla costruzione di una fattispecie di una disciplina dell'imputazione della disciplina a chi si comporta modello criticato ma che probabilmente almeno per quanto riguarda la mia posizione non ha allo stato alternative che reputo convincenti e nel cercare la fattispecie mi pare utile ricordare che l'individuazione della fattispecie è sempre relativa cioè dipende anche dalla disciplina che dobbiamo applicare e quindi in definitiva dipende dagli interessi mobilitati nel caso concreto e che si intende governare e allora è importante credo nel vigilare rispetto a proporre selezionare una sola fattispecie di NFT dovendosi di volta in volta appurare quale disciplina si intende applicare e allora se non vedo male cercando la fattispecie di NFT manca una definizione legale cioè racchiusa in un testo che possa produrre effetti verso terzi e che quindi sia opponibile a tutti in altri termini gli NFT mi sembra che al momento siano un fenomeno tecnico e socio-economico autoregolato frutto di autonomia privata per cui chi detta la regola ne è il destinatario e non di eteronomia dove non c'è una coincidenza tra chi pone la regola e i destinatari dei suoi effetti poco male potremmo dire perché in fondo la fattispecie si può ricostruire anche dalla disciplina un esempio eloquente di questa ricostruzione è proprio quella dei titoli di credito perché il nostro codice civile individua la disciplina dei titoli di credito ma non individua la fattispecie dei titoli di credito allora dalla disciplina si ricostruisce la fattispecie ecco però il problema è che degli NFT non si scorge non soltanto una fattispecie ma non si intravede neppure una disciplina eteronoma cioè anche in questo caso anche dal punto della disciplina gli NFT sono regolati dall'autonomia privata insomma gli NFT sono definiti e disciplinati dall'autonomia privata e quindi sono definiti e disciplinati potenzialmente in modo diverso per ogni assetto pattizio e questo è un aspetto sorprendente se si considera che intuitivamente gli NFT sono destinati a circolare e la circolazione il trasferimento richiede semplicità certezza sicurezza soprattutto per la soluzione dei conflitti di interessi con le terze parti è un aspetto sorprendente soprattutto e ancora quando come per gli NFT manca una vicenda materiale di spossessamento e impossessamento di res salvo forse l'ipotesi delle banconote gli NFT essendo dei simboli che l'essere umano può percepire ma non può apprendere non può apprendere fisicamente del resto token probabilmente potrebbe derivare da taca che evoca le tacche dell'articolo 2713 e che quindi ha un'efficacia esclusivamente probatoria e in effetti la locuzione token nella lingua veicolare per eccellenza che l'inglese significa segno una tangibile evidenza della esistenza di un fatto e lo dico per inciso token potrebbe anche richiamare la parola simbolo che a sua volta richiamasi un ballo cioè come mettere insieme segni per ottenere la prova di un fatto e richiama lo spezzare i rami tra i due contadini per poi provare nel loro ricongiungimento appunto un fatto non di meno gli NFT circolano circolano con una relativa semplicità con una relativa certezza e con una relativa sicurezza perché questa vicenda la vicenda di impossessamento e spossessamento di cose è sostituita con l'uso di un registro e la novità di questo registro è che la semplicità la certezza e la sicurezza non sono si è detto poc'anzi affidate all'autorità di un intermediario ad un certificatore che ne assume la responsabilità quell'affidamento si radica in un dosaggio fallace potenzialmente fallace come si diceva prima dicevo in un dosaggio tra tecnologia e controllo diffuso ed accessibile e questo nuovo registro dicevo è ancora che utilizza la tecnologia blockchain è ancora una volta governato dall'autonomia privata e però appunto la rilevanza verso terzi che assicura quella relativa semplicità certezza e sicurezza dell'operazione del registro è funzione non di una regola eteronoma neppure di una regola ma della tecnica e della dimensione pubblica diffusa e accessibile di esso nel formante legale oggi disponibile in particolare nel regolamento 858 del 2022 che poi è stato recentemente attuato in Italia con un decreto del marzo del 2023 che emblematicamente l'uno e l'altro sono intitolati regimi pilota quasi a ricordare che la regolamentazione eteronoma è impotente rispetto all'andamento della tecnica dicevo questi regimi pilota domestico e dell'Unione Europea non descrive né prescrive alcunché rispetto agli NFT si definisce il registro distribuito si definiscono le regole relative al registro distribuito ma non si parla non si definisce il token o meglio l'NFT meno che mai il token anche per la verità che si parla di tokenizzazione degli strumenti finanziari come rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti e poi non considerando si pone il problema che io penso sia il problema dei token che è quello della validità legale problema che appunto è il problema dei token che quando risolto consentirebbe quello della validità legale di uscire dalla dimensione pattizia autonoma per raggiungere la dimensione reale e dunque di opponibilità ai terzi e dunque in prima approssimazione e se ho altri due minuti ma prometto di cercare di rispettare i tempi dicevo in prima approssimazione i token potrebbero definirsi giuridicamente come una rappresentazione digitale di qualcosa che attribuisce posizioni giuridiche meglio pretese e soggezioni e quindi anche obblighi e che esistono per così dire naturalmente nei registri distribuiti rappresentazione digitale suscettibile di essere fissata in senso lato in un modo relativamente certo attraverso il meccanismo dei consensi tra nodi di rete e di attribuire a qualcuno in modo altrettanto relativamente certo pretese e obblighi insomma posizioni giuridiche ciò senza la certificazione di un'autorità che ne sia responsabile però il formante legale oggi disponibile benché non ancora in vigore più interessante dal mio punto di vista proprio per gli NFT è il Mica a cui oppure in mattinata si faceva in avvio si faceva cenno in una versione che risale al 5 ottobre che mi risulta essere stata da pochissima approvata qui si definisce il genere delle criptoattività come la rappresentazione digitale di valori che possono essere trasferiti e conservati elettronicamente utilizzando i registri distribuiti e si regolano gli NFT senza definirli per la verità e che cosa si dice in questo nella righettiva Mica si dice che innanzitutto sono esclusi dalla regolamentazione perché il regolamento è disapplicato alle criptoattività che sono uniche e non fungibili con altre criptoattività dunque innanzitutto il regolamento che ha una prospettiva dell'investimento non si applica sono poi oggetto di un approfondimento delle linee guida dell'ESMA per cui dovrà emanare dei criteri e delle condizioni di qualificazione devono essere oggetto di un rapporto che la Commissione europea deve rendere al Parlamento europeo in cui si deve scandagliare il mercato e lo sviluppo e il suo sviluppo degli NFT e poi nei pertinenti considerando rispetto agli NFT si precisa che il regolamento è disapplicato agli criptoattività uniche ed infungibili comprese quelle relative all'arte digitale e agli oggetti da collezione il cui valore deriva dalle caratteristiche uniche della criptoattività e la cui utilità è attribuita al titolare del token del resto si dice le criptoattività uniche ed infungibili possono avere un mercato e possono avere una funzione speculativa ma non sono facilmente intercambiabili e quindi il valore di ciascuna in relazione all'altra non è suscettibile di comparazione in un mercato esistente o a mezzo attività equivalenti insomma il considerando ci dice si è possibile un mercato degli NFT ma non è così semplice che questo mercato possa svilupparsi non è da reputare unica e infungibile continuo considerando la parte frazionata di una criptoattività unica e infungibile per un verso e per l'altro l'emissione di criptoattività unica e infungibile come NFT in una serie ed ampia e larga dovrebbe essere stimata come indicatore di fungibilità poi precisano ancora e considerando la mera attribuzione di unica identificazione di una criptoattività non è sufficiente a stimarla unica e infungibile cioè non basta il nomen la criptoattività è unica e infungibile in quanto unica e infungibile è l'attività a cui la criptoattività si riferisce e cioè che rappresenta la criptoattività resta impregiudicata la rilevanza delle criptoattività uniche e infungibili come strumento finanziario cioè la possibilità che se ne possa fare un uso speculativo e il regolamento si applica alle criptoattività che appaiono uniche e infungibili ma le cui caratteristiche concrete o le caratteristiche legate all'uso concreto le determina fungibili o non uniche cioè conta come la criptoattività effettivamente si atteggia in concreto tutto questo come possa intersecarsi con il diritto d'autore non so ma forse potrei arrivare a dire questo rispetto agli NFT che sono partendo appunto dal formante legale sono rappresentazioni digitali di pretese o valori che possono ma non devono necessariamente essere integrati in un registro distribuito l'integrazione in un registro distribuito limitandosi a una mera potenzialità sono pattiziamente costruiti non solo come unici ma anche come infungibili cioè non sostituibili e questi predicati devono essere propri anche di ciò che è rappresentato e ancora devono essere appurati in concreto non essendo a ciò sufficiente una definizione pattizia perdono infungibilità ed unicità quando sono frazioni di criptoattività unica ed infungibile ed indice della perdita di fungibilità è l'emissione in una serie ampia o in funzione di raccolta da ultimo possono svilupparsi in un mercato ed attagliarsi ad un uso speculativo concludo con una sola battuta diciamo che compendia un po' la prospettiva che vedo e cioè che la tecnologia blockchain e così ciò che con essa e in essa si scambia rileva di fatto nei sensi che rileva erga omnes per un profilo di stato della tecnologia ecco questo in fondo è un ritorno all'estrema oggettività dello scambio mutuo a quegli scambi silenti ma rilevanti tra le parti e rilevanti socialmente delle tribù africane di sale contro oro a ricordo delle quali Natalino Irtimo illustro maestro ci ha sollecitato la memoria in un recentissimo e magistrale da par suo saggio grazie grazie professor onza adesso dalla prospettiva giuridica a quella economica diamo la parola alla professoressa Claria Mazzoni prego allora buongiorno a tutti io porto in questo consesso il punto di vista dell'economista d'impresa e cercherò di guadagnare la vostra simpatia con la brevità cercherò di essere quanto più breve possibile perché mi rendo conto che è molto complesso allora io da economista l'economia d'impresa e il management mi sembra che ci sono due concetti che si possono calare in questo discorso naturalmente come tutti quanti hanno detto in modo problematico senza pretesa di dare risposta eccetera allora il primo concetto è quello della servitization che è un termine che vi devo dire in inglese perché non è traducibile in italiano la servitization significa che nell'economia contemporanea il valore attribuito dal consumatore al bene è contenuto è legato al contenuto di servizio cioè non è il fenomeno della terziarizzazione per cui sempre più PIL prodotto interno lordo si riferisce ai servizi è un fenomeno per cui anche l'industria manifatturiera riesce a dare i propri beni a dare ai propri beni valore se a quei beni viene attribuito dal consumatore un servizio un senso di servizio un fascio di utilità e questo non è vero solo nell'economia digitale è vero anche per fenomeni della old economy pensiamo quando acquistiamo un elettrodomestico probabilmente non l'acquistiamo tanto per il valore dei materiali delle materie prime ma quanto se ci dà una buona garanzia se è veloce la manutenzione se arrivano presto i pezzi di ricambio eccetera pensate all'automotive che c'è di più old economy che è l'automobile eppure l'automotive oggi e questo è collegato al concetto di servizio spesso non è acquistata dal consumatore il consumatore non vuole necessariamente la proprietà dell'automobile vuole il servizio di trasporto per cui molti ricorrono per esempio al noleggio a lungo termine oppure al cash sharing cioè quindi nell'economia contemporanea potremmo chiamarla post-industriale è il servizio quello che dà significato e valore al bene e ovviamente questo è massimamente vero per i beni digitali quindi anche per il caso odierno i beni digitali per definizione non hanno materialità è stato detto più volte non hanno fisicità quindi che cos'è che gli dà valore il servizio la fruibilità ad essi collegati ed è interessante l'idea ma qui mi rivolgo anche ai colleghi giuristi che il capitalismo post-industriale o se volete il post-capitalismo digitale non dà più valore alla proprietà o almeno in molti casi non dà più valore alla proprietà e questo è legato strettamente al fenomeno della servitizzazione secondo concetto per mantenere la promessa di essere breve è legato a questo tema del valore che è ritornato in vari modi in vari interventi ora dal mio punto di vista quello che si genera per i beni digitali è una sorta di paradosso del valore cioè nell'economia digitale per i beni digitali ciò che dà valore al bene è il fatto che questo possa essere usato più volte senza usurarsi ed anzi quanto più si diffonde senza usurarsi tanto più assume valore quindi noi abbiamo da un lato questo concetto che il valore viene legato alla diffusione anche questo è ritornato in vari modi durante la discussione e il valore per i beni digitali è generato attraverso una rete attraverso un network in cui c'è la piattaforma c'è il produttore del bene gli operatori di marketing soprattutto c'è la comunità perché i beni digitali non avrebbero significato senza questa coproduzione di valore da parte della comunità di riferimento diciamo dei consumatori o degli utenti però perché c'è un paradosso perché se la riproducibilità garantisce valore questa stessa riproducibilità rende difficile l'appropriazione di valore da parte di coloro che hanno generato il bene cioè il rischio di questa riproducibilità infinita del bene è che l'appropriazione del valore avvenga da parte di persone diverse da quelle che hanno contribuito alla loro generazione quindi il valore è connesso a un elemento la diffusione che potenzialmente ne facilita la riproducibilità però poi non ne garantisce l'appropriazione come ci hanno dimostrato benissimo stamattina i nostri colleghi giuristi due quindi cose come si fa in una economia digitale a verificare che la generazione del valore poi corrisponda all'appropriazione del valore da parte di coloro che l'hanno prodotto allora intanto c'è un problema a monte che in una comunità digitale nella rete per definizione non si sa quanto abbia contribuito ciascuno alla produzione del valore il nostro amico artista non potrebbe dare valore alla sua opera se non avesse la piattaforma e la piattaforma non potrebbe dare valore al suo lavoro se non avesse l'artista ma come si fa a stabilire qual è la percentuale quello che possiamo osservare nel capitalismo digitale è che si sta generando un oligopolio un oligopolio digitale in cui questi digital dragons come le chiamano i nostri colleghi americani questi digital dragons di fatto dettano le regole della appropriazione del valore della comunità nella rete che ha partecipato alla sua generazione in questa rete ci possiamo mettere tantissimi personaggi l'artista la piattaforma stessa tutti alla comunità che dà poi valore gli operatori di marketing si parlava della pubblicità insomma potremmo è molto difficile stabilire tutto va questo tutto va questo tutto va quello e quindi come in tutti gli oligopoli gli oligopoli penso sapete tutti sono i mercati in cui pochi operatori definiscono le regole del gioco negli oligopoli digitali alla fine la piattaforma che è sufficientemente perché questi digital dragons sono sufficientemente intelligenti da lasciare un pezzo del valore agli altri operatori non si appropriano del totale del valore si appropriano probabilmente di una percentuale che è quella che loro ritengono sufficiente per soddisfare le proprie esigenze secondo rischio e finisco che questa appropriazione di valore si trasferisca al di fuori della rete che l'ha generata abbiamo visto ciò diceva il nostro ingegnere ci possono essere dei casi in cui essendo questo infinitamente riproducibile bene diciamo alla merce di tutti qualcuno se ne può impadronire si creano quelle che abbiamo chiamato le fake nella comunicazione ma altrettanto avviene per questi beni digitali e qui diciamo entriamo in un discorso che trattava pure prima il professor Gambino quindi che cosa si fa si cerca artificialmente di rendere unico protetto che poi quello che letteratura economica di decennia ha detto per la protezione dei marchi per la protezione dei brevetti per la protezione delle opere dell'ingegno eccetera eccetera quindi probabilmente qualcosa del genere qualche rischio del genere si corre anche nell'economia digitale quindi bisognerà poi trovare ma questo lo affido ai giuristi i sistemi per proteggere questo bene che di per sé ha valore solo se è molto diffuso se è molto largo chiudo dicendo che ringrazio tutte le persone che sono state che hanno contribuito a questa giornata ma in particolare ci tengo a ringraziare la rivista diritto ed economia dei mezzi di comunicazione il professore Astolfo Diamato che l'ha diretta negli vent'anni e anche gli editori Enzo Dionni e Paola Verlusio perché voi forse non lo sapete ma noi professori universitari ormai viviamo in un sistema di griglie di valutazione per cui diciamo questo comprime la nostra libertà di pensiero anche intellettuale siamo sempre dobbiamo raggiungere quella mediana quell'altra mediana la rivista io lo dico sempre è il mio spazio di stimolo intellettuale pur essendo una rivista scientifica Anvur per area 12 e area 13 quindi diciamo comprovato rigore metodologico però è uno spazio in cui grazie anche al contributo di Roberto Carleva e di Anna Papa che si sono aggiunti negli ultimi anni a questa comitiva veramente ci dà la possibilità di ancora divertirci un po' facendo cultura grazie grazie alla professoressa Mazzoni adesso cediamo la parola l'autorevole parola a chi di valore dell'arte ne sa più di tutti noi la presidente Angela Tecce presidente della fondazione Donna Regina per le arti contemporanea e museo madre di Napoli prego presidente grazie a tutti 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 che mi è difficile trattare prima di tutto perché in qualche modo mi sento sola nel senso che quasi tutti i relatori ad eccezione di Pina De Luca con la quale mi ero sentita perché è anche un'amica appartengono a un mondo diverso dal mio il mio mondo è quello del lo definirò in una maniera un po' prosaica quello del sistema dell'arte non sto dicendo quello dell'arte quello del sistema dell'arte ho lavorato tutta la vita nel ministero beniculturale adesso sono la presidente dell'unica istituzione deputata all'arte contemporanea della nostra regione campania ma anche di tutto il sud cioè un museo d'arte contemporanea dunque un museo che sia pur molto poco per le nostre scarse risorse acquista anche delle opere d'arte quindi i problemi che sono stati messi qui sul tavolo sono problemi che ci riguardano in modo diretto in realtà io ho preparato questo piccolo powerpoint che vi farò scorrere molto velocemente perché molti dei concetti che avevo espresso così anche per chiarirmi le idee sono stati già detti ma io in qualche modo li ripercorrerò molto molto velocemente perché li riprenderò dal nostro punto di vista dico nostro punto di vista soprattutto vorrei dire che pur nel grande interesse che ho provato per moltissimi degli interventi che mi hanno preceduto e soprattutto gli ultimi sono stati molto attinenti a quelle che sono le nostre problematiche perché sono quelli relativi a una certa confusione che invece può esistere tra concetti differenti il concetto per esempio che sono stati anche espressi qui in maniera random il concetto dell'autenticità dell'opera è un concetto antico anche per giudicare un'opera diciamo del 600 ci vuole un certificato di autenticità perché abbiamo valore di mercato e qui passiamo dal discorso dell'autenticità e della certificazione a quello del valore Clelia Mazzoni ha detto molto bene la problematica del valore economico che nel nostro nella fattispecie nel nostro settore si identifica con il mercato dell'arte il mercato dell'arte è un mercato ampissimo oggi che va appunto dalle grandi fiere internazionali che riguardano l'arte antica maastrica eccetera alle grandi fiere da Basilea a Milano a Torino artissima eccetera io per esempio sono Reci e duce di essere stata pochissimi giorni fa la fiera al Mi Arta di Milano che è una delle fiere in qualche modo perché un presidente di un museo o un direttore di un museo come ero io prima va a una fiera d'arte contemporanea anche per capire dove va l'arte in un determinato momento al Mi Arta c'erano degli NFT però oltre al valore economico esiste il problema del valore artistico valore artistico non scenderò in questo argomento perché ovviamente oggi viviamo un mondo assai complesso quindi le community di riferimento relative al valore artistico sono molte e difformi esistono tanti tipi di mercato esiste come ha detto giustamente il professor Gambino anche problematiche di gusto e va bene questo quindi questo settore qui poi c'è stato l'argomento trattato come io sapevo dalla amica Pina De Luca che è il discorso della fruizione estetica una volta si diceva quest'opera d'arte il godimento estetico l'aura dell'opera d'arte qualcuno come il professore e qui ha citato anche Benjamin e qui veramente sono passati decenni sotto i ponti e d'altra parte quando Benjamin nel 35 parlava appunto come è possibile parlare ancora di aura in un'epoca dove la ricoproducibilità tecnica di un'opera rende appunto possibile che io una fotografia la stampi in 100 copie 300 copie quante voglio io eccetera era già stata messa in discussione molto prima di quando Benjamin scriveva perché già all'inizio del 900 le avanguardie il dadaismo eccetera aveva in qualche modo sottratto all'opera l'aura spesso spostandola all'autore l'aura dell'opera d'arte quando Duchamp ci presenta l'orinatoio è come se l'aura il valore dell'opera d'arte fosse stato spostato dall'opera stessa all'artista e questo è un fenomeno molto complesso non scenderò in questi dettagli perché se no ci perderemo io come Clelia Mazzoni vi faccio la promessa di essere breve per ora vi ripeto non va il latino va bene o ripeterò dei concetti che avete sentito molte volte ma a me è funzionale che cos'è l'NFT è un gettone non fungibile e non riproducibile si può scusatemi ho saltato una slide no eh? come devo tornare indietro? scusatemi vorrei tornare indietro alla mia alla mia slide allora si può parlare dunque qui l'ho messo ovviamente provocatoriamente di un rinascimento digitale con gli NFT ovviamente ve l'ho messo in rosso col punto interrogativo come è già stato detto perciò mi sto un po' ripetendo gli NFT possono rappresentare qualsiasi tipo di file digitale inclusi siti web web arte musica firme l'ha detto qualcuno certificati diplomi brevetti proprietà immobiliari e persone persino proprietà fisiche nel mondo reale sono degli smart contract dei contratti intelligenti e poi questi contratti vengono registrati su una blockchain non riesco siediti accanto su una blockchain e così la prova della proprietà della proprietà guardate non della è garantita sì passiamo oltre quindi la una delle caratteristiche di un NFT ci verrà detto probabilmente meglio di me dopo la vita di un NFT può essere rintracciata dalla fase iniziale di Coneo a quella delle successive vendite eccessioni e questo ha consentito all'opera d'arte digitale di equipararsi a un'opera tant'è vero che al Miart di Milano un NFT poteva essere venduto al pari di un'altra opera durante la pandemia c'è stato questo fenomeno che è stato più o meno accennato da qualcuno di quest'artista statunitense Mike Winkelman in arte Beeple che lanciò questo lavoro Every Day is the First Five Thousand Days l'opera era la prima in un formato digitale che fu messa all'asta da Christis e questo collage di opere fu pubblicato per 5.000 giorni consecutivi a partire dal primo maggio e fu venduta per 69 milioni di dollari il mondo dell'arte dunque in una delle sue diciamo accezioni perché quello di Christis non è il mercato per esempio delle gallerie Christis è una casa d'arste quella che noi definiamo un secondo mercato quindi però ha in qualche modo una vendita peraltro a un prezzo così straordinario ha avvalorato anche l'esistenza di un NFT nel nostro mondo diciamo quello del sistema dell'arte andiamo avanti oggi comprare un NFT come vi verrà detto dopo è davvero un gioco da ragazzi basta aprire un wallet nient'altro che quindi un portafogli digitale comprare una valuta come ad esempio Ethereum o siti come Superreum Rarible Coinbase Crypto e trovare quello che uno desidera per cui quello che è stato certificato come NFT può essere un poster allo stessa maniera qualcuno stamattina l'ha detto che io posso comprarmi un'opera d'arte che mi piace di Monet un poster me lo incornicio me lo metto a casa ottengo il mio godimento estetico però mi sono comprato un manifesto non mi sono comprato un'opera dal valore artistico e dal valore economico recentemente al MoMA di New York è stata esposta una grandissima opera NFT di questo artista turco ma trapiantato a New York è nato nell'85 che si chiama Unsupervised è stata esposta al MoMA da novembre fino ad aprile e praticamente lui che cosa ha fatto quindi vedete che qui è stato registrato come NFT un processo il processo è stato quello di reinterpretare l'intera collezione del MoMA circa 200 anni in storia dell'arte dai dipinti alla fotografia dalle automobili design ai videogiochi e questa intelligenza artificiale che ovviamente non è la stessa cosa della certificazione NFT la rilegge in una maniera se andiamo avanti alla slide successiva vedete è avuto un grandissimo successo ed è stato generato da algoritmi con l'intelligenza artificiale ed erano se andiamo avanti l'altra slide qui vi ho messo invece come andando in internet io ho trovato la possibilità proprio come si può comperare con la chain et reum la categoria arte io posso comperarmi questo quest'opera di Refique a Novole tenete conto che quest'artista è esposto anche come diceva la slide precedente l'anno scorso a Palazzo Strozzi a Firenze se andiamo ancora avanti ha fatto anche un'altra operazione che ammonte come prima vi ho descritto un procedimento quello di attraverso gli algoritmi di un'intelligenza artificiale mettere insieme 200 opere d'arte del MoMA di New York lui qui ha fatto un'altra operazione artistica che è molto in uso oggi l'avete visto anche qui a Napoli quella del videomapping il videomapping cos'è? gli artisti preparano una sorta di installazioni visive temporanee che si applicano sulle facciate nei palazzi nelle piazze diciamo il videomapping in genere dialoga con la città con gli edifici della città lui lo ha fatto sulla famosa casa Blad Batlò di Barcellona e tutti questi videomapping se andiamo avanti ha pensato bene di registrarli come NFT quindi lui ha registrato un procedimento artistico e è stato battuto sempre da Cristis a 1.038.000 dollari insomma quindi capite bene che questa diciamo non dico confusione ma comunque questo usare termini diversi valore artistico valore economico oggi è un discorso su cui bisogna stare molto attenti perché è evidente che un artista che è stato accreditato dalla sua presenza al MoMA e qui vengo alla mia specificità quella di essere un presidente di un museo d'arte contemporanea ha avuto la possibilità di accedere tramite il mezzo e io lo chiamo così lo chiamo così anche per gli studenti che sono qua dell'NFT che questo suo processo artistico sia stato in qualche modo avvalorato anche dal punto di vista economico andiamo avanti vi ho messo qui una slide che per me è molto molto banale ma non volevo ripetere i discorsi dell'amica Pina De Luca e quindi ve l'ho messa in una maniera molto prosaica molto veloce qual è il sistema dell'arte oggi quali sono gli attori ovviamente c'è l'artista guardate un po' la stranezza l'ho saltato poi c'è il mercante poi c'è il gallerista poi c'è il critico poi c'è il collezionista poi c'è il direttore del museo c'è la casa d'asta ci sono i media recentemente sul Robinson del 18 febbraio 23 Achille Bonito Liva uno dei critici d'arte più accreditati diciamo quelli che hanno in qualche modo costituito una parte del sistema dell'arte che è un nostro riferimento con le prime mostre dedicate all'avanguardia italiana negli anni 70 quindi ecco perché lo cito perché poi esiste anche per il giudizio il problema della storia della storicizzazione e lui ha scritto questa frase che ha avuto un sacco di polemiche ha provocato un sacco di polemiche sui giornali spedaccializzate senza un sistema composto da media collezionisti mercato museo pubblico le opere in sé non avrebbero valore un plus valore culturale travalica anche la qualità stessa dell'oggetto è ovviamente una frase provocatoria un valore aggiunto un plus valore culturale che spesso travalica anche la qualità stessa dell'opera d'arte e la modifica in una sorta di superarte ora questa frase io ve l'ho scritta semplicemente perché qualche anno prima Achille che era più un critico più provocatorio aveva addirittura detto una frase che io ho citato ad alcuni vostri colleghi quando mi hanno chiesto di intervenire oggi e lui aveva detto Laura dell'opera arte oggi è il mercato ovviamente è una butata ovviamente è una frase provocatoria ma in qualche modo torniamo agli esempi paratici quando il museo madre ha potuto acquistare piccolissime opere magari anche per sostenere il nostro territorio gli artisti eccetera che cosa abbiamo fatto io con la collaboratrice che è qui in sala che è una legale e abbiamo un consulente per il diritto d'autore che ci scrive un contratto per gli artisti oggi noi acquistiamo un'opera sia se quel valore che attribuiamo all'opera è in qualche modo creditato da una community da una critica e anche da diciamo il mercato stesso a valore cioè nel senso se io voglio comprare per un museo pubblico un'opera che a cui attribuisco un valore solo da me non posso farlo chiaramente incorrerei in tutte dovrei poi ricorrere a voi giuristi per essere difesa e invece ovviamente ci riferiamo a un valore di mercato condiviso questo poi non vorrei scendere nel dettaglio del condiviso che cosa vuol dire ma ovviamente devo anche garantirmi che quell'opera abbia e qui torno ai concetti con cui ho iniziato un'autenticità per cui io posso comprare una fotografia che è riproducibile innumerevoli volte ma la legge del diritto d'autore oggi sancisce che una fotografia può essere considerata un originale fino a un determinato numero di copie e quando io lo acquisto l'artista mi dichiara che il numero di copie ovviamente se una fotografia è tirata in 30 copie o è tirata in 5 copie il valore di mercato ma questo cambia se compro un video noi abbiamo comprato recentemente dei video anche in quel caso non solo l'artista nel contratto che il consulente il mio ufficio legale mi hanno predisposto deve dichiarare quanti copie ne esistono ma deve anche dirci che noi siamo proprietari di una delle tre copie ma in quel caso lì dobbiamo anche concedergli altra frase che è uscita in alcuni discorsi un diritto di seguito quell'artista quel video lo può anche usare o riprodurre però guardate che buona parte del mercato dei video che oggi sono una parte considerevole della produzione artistica contemporanea è bloccata non su una blockchain come gli NFT ma è bloccata perché per esempio molti artisti pubblicano questi video su Vimeo e io non posso vederli se non attraverso una password o un pagamento quindi come dire mi permetto di dire che i media non sono l'opera per noi sono semplicemente lo strumento diciamo che oggi per cui per me un NFT è uguale a un video è uguale a una fotografia è uguale a una installazione e quindi il problema è quello del valore estetico artistico e il riconoscimento da parte di quel piccolo circuito di cui vi ho appena parlato quello che è la critica d'arte oggi è il sistema del mercato dell'arte e dunque io che sono una storica dell'arte nasco storica dell'arte anche ho lavorato per anni in una soprintendenza sono stata direttore di un museo eccetera ho ovviamente un ambito di riferimento che probabilmente non è lo stesso di quelli che esistono come ho detto prima nel nostro mondo complesso ho portato un altro esempio che non c'entra niente con gli NFT ma può dare l'idea l'ultimo ho finito quando ero direttore delle periferie urbane alla direzione arte e architettura contemporanea al ministero ho predisposto un bando che si chiamava periferie intelligenti in cui chiedevo a degli artisti possiamo di questo era il bando di finanziare scusate progettare un'opera d'arte che in qualche modo coinvolgesse il pubblico delle periferie urbane con l'intelligenza artificiale hanno vinto questa è l'ultima slide ho finito due artisti purtroppo uno dei due Salvatore Iaconesi erano una coppia e scomparso l'anno scorso in giovanissima età e loro hanno realizzato quest'opera che è un bambino un bambino digitale Iacos e questo bambino praticamente è stato realizzato con l'apporto di tutta la comunità di Tor Pignattara a Roma un bambino che parlava che parla 56 lingue perché l'intelligenza artificiale ha permesso di far acquisire a questo bambino virtuale chiamiamolo così l'uso di ben 56 lingue quante erano le etnie presenti nel quartiere e che condivide una serie di bisogni aspettative non l'abbiamo registrata come NFT dunque non ha valore? Grazie alla Presidente Tecce allora adesso invito gli altri relatori a venire al tavolo a venire Grazie a tutti. Buongiorno, intanto inizio con un po' di ringraziamenti di rito a tutti per avermi permesso di essere qui oggi in questo dibattito, perché poi alla fine è un simposio un po' all'antica. Dal sapore è francamente necessario in questo momento storico e devo dire ad onore del vero a tratti entodiasmante per gli interventi che ci sono stati. Io mi occupo di mercato dell'arte, sono un ingegnere, un professore in un master alla LUIS in questo argomento. E questo per fare un po' anche un disclaimer, le slide che sono poche, vi garantisco che ho preparato, peccano forse di un eccessivo pragmatismo. Mi auguro che voi siate così clementi da perdonarmelo, però la mia intenzione oggi è quella di, visto che avevo idea che gli illustri relatori che si sono avvicendati prima di me e avrebbero sicuramente aperto delle prospettive che intellettualmente sono molto più interessanti di quelle che non vi potrei dare io, vi vorrei dare uno spaccato su quale è la situazione oggi. Anche per fare un po' di chiarezza, perché poi il concetto aulico tende poi spesso a perdersi nella vita reale. Parliamo di mercato dell'arte, che quindi è la controparte economica del sistema dell'arte, di che si parla? Perché poi alla fine è un'entità molto astratta, quasi alchemica, la realtà è che è un mercato importante. Quindi prima cosa, quando si parla di mercato dell'arte nel 2021, purtroppo i dati sono aggiornati al 2021 perché il report principale viene presentato a Basilea, quindi va rappresentato a giugno, si parla di un mercato che nel 2021 ha generato una stima di 65 miliardi di dollari di scambi. Stima che è assolutamente spannometrica perché, come suppongo, possiate immaginare, ma come poi vedremo anche dopo, il mercato dell'arte è tradizionale dominato per definizione da una quasi totale opacità, che rende molto 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 difficile stimare realmente i valori. Il 47% di questo mercato nel 2021 era generato dai volumi delle case d'asta. E questo in realtà mi serve, anche un po' per ricollegarmi a quello che è un discorso che è stato affrontato prima, di differenza tra mercato primario e mercato secondario. Mercato primario di un'opera si intende la prima vendita, quindi la vendita che viene da artista a collezionista, per mercato secondario si intende la rivendita dell'opera. C'è una differenza sostanziale tra i due mercati perché, banalmente, va da sé che il mercato secondario esiste laddove l'artista abbia già avuto un certo riconoscimento. Nessuno si compra, o meglio, si ricompra da un collezionista un'opera di un artista sconosciuto. Si entra in quello che, quello che la casalinga di Voghera, per toccare un argomento che è stato affrontato prima, definirebbe il famoso dell'artista quotato. Tutti hanno sempre conosciuto qualcuno che parla di artisti quotati. Il senso dell'artista quotato è un artista storicizzato e che quindi è rivendibile nel secondo mercato. Le case d'asta, per definizione, fanno secondo mercato, tranne alcuni casi, per assurdo, soprattutto legate al mondo dell'NFT. Questo mi serve per darvi un'idea su quanto poi questa ripartizione di mercato sia paritetica, se non addirittura forse sbilanciata come valore sul mercato secondario, perché le gallerie d'arte e i dealer in realtà concludono anche tantissimi affari relativi al mercato secondario. Mercato online. Allora, questo è un primo grande punto di chiarezza che va fatto. Quando si parla di mercato digitale dell'arte, non si parla di mercato dell'arte digitale. E detta così sembra un po' una supercazzola. No, è fondamentale, c'è una differenza di base. Mercato digitale dell'arte è un mercato che avviene su una piattaforma digitale e che giustifica lo scambio di un certificato fisico di opera, ma di base, come abbiamo visto e come sicuramente vedremo anche nelle considerazioni che poi vi farò a seguire, quando si compra un'opera d'arte si compra un certificato. E questo succedeva molto prima dell'avvento degli NFT, nel senso che chiunque si sia comprato la banana di Catalan si è comprato un certificato, e non la banana che viene mangiata ogni tanto. È così il museo che espone la fontana di Duchamp, è così il museo che ha deciso giustamente di comprare uno splendido wall drawing di Soluit, si è trovato un quaderno di istruzioni piuttosto che non un'opera. Quindi in realtà l'acquisto è di un certificato. Il mercato online è l'acquisto dei certificati fisici attraverso piattaforme online. Questo mercato è un mercato che, come potete evidentemente immaginare, è esploso durante la pandemia, vista l'impossibilità fisica per il sistema di concretizzarsi in tutti quei circhi che lo contraddistinguono, le fiere piuttosto che non le aste, eccetera, si è incominciato a fare fiere online, aste online, eccetera. Il mercato è esploso ed è passato nel 2020 al 24,65% del volume degli scambi totali. Quindi stiamo parlando di un mercato gigantesco, 12,4 miliardi di dollari di scambi. Trend, che questo è interessante da notare, ha continuato a salire anche con la riapertura del mondo. Post pandemia, logica farebbe supporre che tutti quelli che hanno acquistato online tornassero ad acquistare in presenza. Parzialmente vero, il trend percentualmente è diventato più basso, ma ha continuato a salire. Quindi il mercato online è oggi una grandissima risorsa. Il mercato degli NFT è un'altra cosa. Prima cosa fondamentale, NFT ed arte digitale non sono in alcun modo sinonimi. Anche lì, l'arte digitale esisteva molto prima dell'avvento degli NFT, l'NFT non è il sostituto dell'opera d'arte, l'NFT è il sostituto del certificato dell'opera d'arte, in un certo senso. Quindi fondamentalmente questo è un primo argomento da trattare. La quota degli NFT scambiati è solo minimamente riconducibile all'arte. La stragrande, quando si sente grandi numeri, il mercato degli NFT è esplodito, è incredibile, miliardi, billions, eccetera. La realtà è che la stragrande maggioranza degli scambi di NFT sono cose che a noi comuni mortali e a noi che sfortunatamente abbiamo dai 25 anni in su non interessano minimamente, non siamo neanche in grado di capire. La stragrande maggioranza, e lo vedete da questi numeri, l'82% degli scambi nel 2019 era generato da oggetti che non avevano niente a che vedere con l'arte. Erano spesso oggetti di videogiochi. Cioè, le persone compravano una macchina da poter utilizzare in un determinato videogioco scambiandosela attraverso l'NFT, perché quello era il certificato di proprietà che gli sbloccava su quel videogioco la macchina. Quindi, quando si parla di mercato di NFT, si parla in maniera molto molto marginale di mercato dell'arte. E ancora di più si parla di un mercato che è frazionato, diciamo, nelle tre quota parti principali. mercato altro, quindi mercato di oggetti di videogioco, piuttosto che un mercato di proprietà terriere sui metaversi. Adesso non voglio spingermi oltre, perché poi faccio discorsi che sembrano fantascientifici, ma se qualcuno di voi avesse... Io vedo un mio nipotino che gioca su Roblox, piuttosto che non su Sandbox, e lui si compra la terra attraverso gli NFT. O meglio, adesso non più, perché vale decine di migliaia di dollari, ma mediamente questo è quello che aveva fatto. C'è poi un'altra nicchia, che è la nicchia dei collectibles, che è una nicchia che le case d'asta stanno tentando, secondo punto, di far rientrare nel settore dell'arte, ma che in realtà con l'arte non ha nulla a che vedere, che sono mediamente delle figurine generate da algoritmi di intelligenza artificiale generativi. I CryptoPunks, per darvi un'idea se qualcuno li ha visti, vengono venduti da Christie's e da Sotheby's, ma non c'è nessun intento artistico dietro a un CryptoPunk, e l'intento artistico, ringraziamo Dio, forse rimane l'unica reale possibilità che noi abbiamo per definire in maniera univoca un oggetto d'arte. Se non c'è l'intenzione, quello non è una parra d'arte. I collectibles non sono pensati per essere quello, ma generano una stragrande maggioranza del mercato. Perché? Perché, come poi vedremo dopo, adesso non vorrei farmi un autospoiler, ma mediamente quando si parla di mercato degli NFT non si parla di mercato collezionistico come noi lo intendiamo. Cosa estremamente interessante, che poi è rappresentata da questo grafico, ritornando al discorso e all'ambivalenza che c'è tra mercato primario e mercato secondario, è che il volume degli scambi del mercato secondario è ampio. E questa cosa, in virtù di quello che vi dicevo prima, ovvero sia che il mercato della rivendita presuppone una storicizzazione dell'artista e dell'opera, è controintuitivo. Perché il fenomeno degli NFT è nato ieri, cioè tecnicamente è nato due anni fa dal punto di vista commerciale. Come diavolo è possibile che già il valore degli scambi sia così forte nel mercato secondario? Vedremo più là. Ora, dopo questo noioso preambolo numerico, passo delle considerazioni, sparate così come se fosse veramente una raffica, anche perché molte sono già state affrontate mirabilmente negli interventi precedenti, però insomma, punto primo, il mercato tradizionale e il mercato degli NFT non sono sovrapponibili. Detto questo si influenzano, o meglio, non si sarebbero mai influenzati se Christie's e Sotheby's non avessero deciso ad un certo punto della vita che era una possibile fonte di introito, cospicua e quindi avessero deciso di cambiare i nomi dei loro dipartimenti di arte contemporanea in post-war contemporary and NFTs, sdoganando il fatto che l'NFT possa essere considerato un'opera d'arte, cosa che, e così la butto lì per giuristi ed economisti in aula, tra le altre cose ha anche un sottile, come dire, una sottile implicazione da un punto di vista di riciclaggio, non essendo, come voi sapete, la compravendita di opere d'arte effettuata da privati tassabile nel profit gain, cosa interessante, perché potete immaginare quali scenari si possano aprire dietro questa parola. Punto primo, gli NFT devono essere acquistati in criptovalute, si possono pagare in dollari, ma il dollaro viene tramutato in cripto, la cripto compra l'NFT. Questo vuol dire che l'opera d'arte, o meglio il valore economico dell'opera d'arte, fluttua al fluttuare di una valuta, cosa che per noi è assolutamente controintuitiva, nel senso che va da sé che nessuno quando compra David Hockney pensa di avere un'opera che fluttua in base alla sterlina. Sull'NFT chiaramente questo è un discorso fondamentale. L'anno scorso il mercato degli NFT ha avuto una contrazione numerica fortissima, non data dal volume degli scambi, ma data dal fatto che le criptovalute su cui si poggiava Ethereum, Solana, hanno contratto e quindi il valore banalmente è sceso. La solicitazione avviene con modalità diverse. Il mondo degli NFT, la comunità dei collezionisti, ha dei canali di comunicazione diversi e soprattutto la musealizzazione di cui prima parlavamo in maniera assolutamente interessante nei musei tradizionali, passa attraverso la possibilità installativa dell'NFT. Prima sì, all'inizio del convegno, giustamente si parlava e si ironizzava sull'impossibilità di fare un museo, forse l'inutilità di fare un museo di token. Sa va a san dire? L'NFT è legato alla sua periferica. Quando il Castello di Rivoli ne compra l'NFT di Beeple, non compra, non espone l'NFT di Beeple sullo schermo, sulla televisione, ma compra un'installazione rotante di tre schermi che hanno questo personaggio che cammina, quella è un'installazione fisica, esattamente come è un'installazione fisica un televisore di Nanjoon Pike piuttosto che un'installazione fisica di Bruce Nauman. Si torna ad un concetto di fisicità per la musealizzazione. Il mercato degli NFT è solo speculativo, non c'è collezionismo nel mercato degli NFT. Questo è un grandissimo problema che è molto difficile da far capire a noi operatori del sistema tradizionale che abbiamo una certa idea automatica del sistema dell'arte. Il tempo medio di giacenza di un'opera nella collezione, quindi nel wallet di un collezionista, è 33 giorni. Cioè, mediamente, un NFT è collezionato per 33 giorni, poi viene rivenduto. Nessuno compra un quadro all'asta per rivenderlo, anche qualora fosse legalmente possibile, dopo 33 giorni. Il mondo degli NFT è un mondo ad oggi puramente speculativo, dominato da logiche speculative. Questo fa sì che il valore della, scusate, l'analogismo della criptoarte è orrendo, però è funzionale. Il valore della criptoarte in questo momento è assolutamente omologo al valore economico. Valore dell'NFT e prezzo sono la stessa cosa. Questo purtroppo è un grande dramma che sta vivendo il sistema dell'arte in questa generazione e che è quello che poi è mirabilmente, come dire, espresso da Bonito Oliver nella frase di prima che è sacro santo, oggi il valore è inscindibile. La realtà è che la critica oggi e quindi se vogliamo il valore scientifico, chi è deputato a trasmettere il valore scientifico, la critica si accorge dei criptoartisti quando i criptoartisti sono molto cari. Nessuno, mettiamola così, la storicità, la tagliola della critica è data esclusivamente dal valore economico. Chiudo con l'ultima slide e con gli ultimi quattro punti. Uno degli aspetti rivoluzionari, anche qui lo accenderò perché purtroppo in realtà l'intervento avrebbe richiesto probabilmente 12 ore, ma insomma spero di essere stato conciso ma di non aver lasciato nulla. La grande rivoluzione è che il mercato degli NFT così come è concepito è trasparente e l'incompletezza informativa alias l'opacità è la base fondante del sistema dell'arte così come lo abbiamo costruito. Nessuno sa quanto un'opera viene pagata, nessuno sa a quanto un'opera viene comprata, tant'è che per quale motivo le case d'asta hanno un valore ormai quasi onnipotente sulla definizione del valore di un artista? Perché i valori all'asta sono tecnicamente pubblici. Tutto quello che è compravendita privata non è pubblico e questo fa sì che sostanzialmente la mancanza di informazioni, la sincronia informativa che c'è tra venditore e compratore sia la base su cui si regge il sistema dell'arte. Gli NFT lo cambierebbero totalmente. La domanda è può il sistema dell'arte sopportare questa cosa? Who knows? Art Basel ha lanciato un sistema di NFT che diventano un certificato digitale aggiuntivo delle opere che dovrebbero essere vendute durante le fiere di Basel. Vai a capire se questa cosa potrà realmente essere implementata anche perché banalmente tutti saprebbero quanto è stata comprata un'opera e tutti saprebbero in quale collezione è che è una cosa impossibile da pensare per il sistema così come l'abbiamo concepito. Ad oggi la fruizione di un NFT è limitata dalle periferiche va da sé la fruibilità e la piacevolezza di cui parlavamo prima se io mi compro un NFT al meglio lo posso guardare su un televisore ma è ovvio che quello è un tipo mettiamola così l'aura di cui parlava Benjamin è anche ed è fondamentalmente anche legata all'esperienza fisica della fruizione del lavoro è ovvio che le nostre generazioni quindi tutto quello che è post 25 anni non è abituata ad avere una sindrome di Stendhal di fronte a un televisore per noi questa cosa non c'è non succede e lo è per i ragazzi i ragazzi giovani quello fanno cioè quando per loro vedere le democrazioni da Mignon sul televisore ha lo stesso impatto emotivo che per noi non possiamo dare la stessa aura quindi purtroppo c'è un certo gap generazionale che sarà difficile da sormontare questo avrà il fatto che gli NFT ad oggi non sono facilmente accessibili ad un pubblico generalista cercherò di essere molto veloci le opere d'arte sono beni di Veblen quindi tanto più generano voglia di acquisto tanto più sono cari e in più sono beni posizionali sono status symbol un bene è posizionale solo se la mia cerchia sociale gli riconosce il valore che gli riconosco io se nessuno se gli NFT continuano ad essere una cerchia molto molto come dire ristretta degli addetti ai lavori piuttosto che non di un certo mondo che definiremmo di nerd è molto complicato il fruttore medio di NFT è un ragazzo giovane che si può sparare la posa passatemi il termine un po' prosaico di possedere quell'oggetto in un ambiente sociale di social network di forum eccetera in cui la sua socialità gli riconosce il valore dell'acquisto di quell'oggetto perché ne conosce il prezzo ne conosce il valore economico fin tanto che gli NFT saranno un prodotto di nicchia non avranno il senso del valore posizionale e quindi non si genererà una sacca di collezionismo così come lo conosciamo noi il collezionista non si darà in casa una cosa di cui nessuno capisce il valore ultima cosa mancanza gli intermediari commerciali il mondo degli NFT è un mondo che poi nasce decentralizzato anche cavalcando una certa onda l'intermediario non ha solo un valore commerciale l'intermediario ha un valore scientifico forte perché la mancanza degli intermediari toglie un filtro fondamentale se voi domani sull'onda dell'entusiasmo per questo splendido convegno andasse su OpenSea che è la piattaforma principale di compramenti da NFT e provaste a districarvi non ci capireste un tubo perché ci sono milioni centinaia di milioni di items che potete comprare chi vi garantisce che tolti PAC diciamo quei 10 che sono stati già musealizzati chi vi garantisce che quello che voi andate a comprare magari a centinaia di migliaia di dollari abbia un valore reale chi vi dice che quell'artista ha un senso che la ricerca di quell'artista ha un senso nessuno in questo momento l'eliminazione dell'intermediario ha fatto sì che purtroppo queste cose diventassero nell'ottica del collezionista di NFT ancora più secondarie e purtroppo chiaramente questo però lo rende incompatibile con il concetto di opera d'arte così come noi lo pensiamo ora mi spiace se sono stato super compresso e diretto ma il tempo fugge ed è tiranno in questa distanza quindi mi auguro di essere stato esauriente per qualunque altra ulteriore se qualcuno fosse interessato può tranquillamente scrivermi via mail o cercare di contattarmi insomma io ho due chiacchiere sull'argomento me ne faccio sempre con grande piacere grazie mille grazie davvero all'ingegnere Liglietti adesso la parola al dottor Fabrizio Malato mentre carichiamo il supporto io mi presento sono ancora diciamo forse l'unico intervento poco istituzionale e alla fine chi vuole può vedere la mia collezione di NFT perché appunto voglio fare sfoggio più tardi però a parte a parte gli scherzi a parte gli scherzi io diciamo per professione faccio faccio altro io mi occupo di generative AI qualcuno ha citato chat GPT lo faccio da quattro anni quindi da prima che partisse diciamo il boom dallo scorso novembre ma sono sempre stato appassionato diciamo delle tecnologie un po' più emergenti innovative quindi già nel 2016 mi ero interessato di cripto e da un annetto e mezzo di NFT oggi vi voglio raccontare un po' di casi mi è piaciuto tantissimo l'intervento l'ultimo intervento dell'ingegner Ghetti perché assolutamente coglie il senso del mercato che io ho vissuto e che continuo a vivere diciamo frequente da consumatore ma anche da investitore e anche diciamo io ho lanciato un progetto su un NFT su una piatta sulla blockchain solana tra l'altro quindi ho vissuto in maniera molto diretta oggi diciamo il mio obiettivo è quello di presentarvi due casi senza diciamo avere nessuna presunzione accademica semplicemente raccontarvi cosa accade nel mercato quindi lo potremmo vedere un po' come una verticalizzazione prima di raccontarvi di Board e Piot Club che come CryptoPunks è uno dei progetti chiamati Blue Chip quindi più di valore che ci sono sulla blockchain tra l'altro Ethereum e di Particle che è stato un tentativo di democratizzare l'arte che poi alla fine è finito come speculazione come diceva prima l'ingegnere vi devo fare una premessa ovvero che nel mondo delle criptovalute come nel mondo finanziario ci sono molte terminologie che richiamano gli animali c'è il periodo Bull c'è il periodo Bear c'è il concetto di scimmia di Ape essere una scimmia nel contesto delle criptovalute ha un significato a dire fare un investimento scellerato quindi prendere tutti i soldi e dire io credo in Bitcoin credo in Ethereum credo che prendano il sopravvento e quindi immagino voglio investire perché tra qualche anno sarò molto ricco perché ovviamente se le criptovalute diventano degli strumenti di pagamento e crescono creano il loro valore aumenta così il mio investimento e il concetto di scimmia di Ape va dietro alla storia di Borde Ape qua c'è la traduzione della loro backstory quindi l'ipotesi l'immaginazione dei creatori di questa collezione che si chiama Yuga Labs immagino di essere nel 2031 che ci siano tutte le persone che hanno investito in Ethereum e in Bitcoin siano così ricche che adesso si annoiano non so non più cosa pare e quindi vorrebbero spendere del tempo insieme ad altri degenerati che come loro hanno investito in criptovalute e quindi il loro richiamo è proprio quello di dire devi andare in un posto speciale cioè devi comprare questa collezione perché se compri la collezione fai parte di una community come la nostra che ci auguriamo tra qualche anno diventerà super miliardaria vi racconto un po' la storia questi sono gli NFT questo è un screenshot di OpenSea che è stato citato diverse volte uno screenshot che ho fatto ieri sera ad oggi se voleste entrare a far parte di questa community dovreste sganciare tra i 70 e gli 80 mila euro e ovviamente questi NFT sono 10 mila sono stati generati da un algoritmo sono tutti diversi e gli NFT con più accessori con gli accessori più rari più figli che ovviamente hanno un valore più elevato non è come dire vado a comprare una roba di marca oppure no tutti i 10 mila sono stati lanciati nel 2021 non sono stati venduti subito ci hanno messo un mesetto a fare sold out quindi a venderne tutti i 10 mila a 220 dollari quindi chi li ha comprati ha pagato 220 dollari dell'epoca oggi ne valgono 80 mila quindi quello che è stato fortunato che ancora non sapeva che sarebbero esplosi ovviamente ha fatto un bel guadagno la novità rispetto agli altri progetti che fino all'epoca erano in sostanza delle collezioni d'arte per modo di dire erano delle immaginette carine quindi capitava che come diceva qualcuno prima venissero utilizzate come fotoprofilo da un calciatore da una cosa e quindi si espandeva in modalità virale c'è l'atto non lo so Neymar Junior lo voglio pure io i board of your club sono stati il primo progetto con una roadmap quindi hanno cominciato a generare valore per le persone che avevano in proprietà questi NFT quindi hanno lanciato un casinoso uno dei metaversi che si chiama The Central Land dove si possono comprare appunto pezzetti di terra digitali che è proprio un concetto un po' strano e hanno lanciato altre collezioni e poi sono finiti sui giornali quando le varie case DAS hanno battuto prima settembre 105 board ape per 25 milioni di dollari quindi 250 mila l'uno e poi un mesetto dopo c'è stata la vendita più alta per questa collezione di 3 milioni e mezzo questa è un po' la timeline vi do qualche numero domanda numero 1 qualcuno di voi sa quanto vale un Ethereum oggi? ok facciamo per finta che siamo 2000 così ci aiutiamo alla moltiplicazione ok facciamo per due lì sopra vedete i ricavi da vendita degli NFT quelli sono in sostanza il totale delle vendite generate diciamo nel mercato primario se vogliamo utilizzare un termine nel senso quando sono stati coniati questi NFT e sono stati venduti questo è quanto hanno sborsato le persone per comprarli ci sono poi c'è il totale di movimento c'è il totale delle transazioni che sono state effettuate sul mercato secondario quindi se io compro uno di questi NFT a 100 euro ho movimentato 100 euro se lo rivendo ho movimentato altri 100 euro e così via quindi il totale del volume di transazioni parliamo di 2.6 milioni di Ethereum poi vi faccio vedere in dollari così vi spaventate altro numero interessante nel 2021 quindi agli apici del mercato di quando il mercato era molto elevato in termini di valorizzazione Yuga Labs che è la start-up dietro Bordeip e tanti altri brand ha effettuato un round di finanziamento come se fosse una normale start-up e quando si fa un round di finanziamento si dice io ti compro 100 azioni tu dammi X grazie a questo scambio si riesce a fare diciamo una valutazione dell'azienda che è stata valutata quindi in quant'era? 2 milioni di Ethereum moltiplichiamo per 2.000 vi dico solo un numero 4 miliardi di dollari valutata al 2021 quindi stiamo dicendo Yuga Labs come azienda che ha 50-60 dipendenti vale 4 miliardi di dollari non so se vi rendete conto è Team la nostra team italiana oggi vale circa 7 miliardi di dollari quindi 70% di Team Acea conoscete? sì Italgas conoscete? Cementir la conoscete? tutte più piccole che Yuga Labs all'epoca poi ovviamente c'è stato un po' un crollo le cripto quindi questa l'ultima valutazione magari non è più necessariamente vera quali sono stati i fattori di successo di BoardApe? numero 1 la roadmap ve l'ho raccontato è stato il primo progetto che ha cominciato a consegnare utilità un po' quello che diceva la professoressa Mazzoni cioè il servizio quindi io divento titolare dell'NFT e in cambio ricevo qualcosa la possibilità di giocare nel casino su The Central altre collezioni che mi vengono regalate e così via la seconda le celebrities lì mi pare che c'è Justin Bieber Paris Hilton Madonna Neymar Junior insomma ce ne sono ce ne sono un po' di celebrities che hanno comprato questi NFT un po' per status un po' perché magari sono stati convinti con degli accordi commerciali immaginate che Madonna un giorno cambia la foto profilo tutta bella bionda diventa una scimmia va virale quindi tutte le persone che cominciano a ragionare a dire ok ma se mi compro l'NFT anche io faccio parte del gruppo dove ci sono tutte queste celebrities se me lo posso permettere terza cosa la community oltre alle celebrities se c'era qualcuno che o ha sborsato oppure ha avuto la fortuna di acquistare prima che partisse verso l'alto il prezzo e quindi Bordeip ha cominciato a organizzare eventi feste e così via quindi immaginatevi la figata e poter dire vado a un evento e magari becco Justin Bieber se è proprio che interessa insomma va bene quindi questo era un po' Bordeip passiamo al secondo progetto che diciamo è stato il tentativo di democratizzare un po' il collezionismo d'arte quindi Particle che è un'altra azienda fondata da un ex C-level di una casa d'aste è partita dalla considerazione che per diventare collezionista d'arte bisogna avere soldi cioè io voglio comprare un quadro di bank si devo pagare 13 milioni di euro io non so voi io non ce le ho quindi per me è difficile potenzialmente andare a comprare un quadro la blockchain abbiamo sentito la parola chiave di decentralizzazione potenzialmente offre questa possibilità quindi Particle cosa ha fatto a maggio del 2021 ha comprato l'Ovis in DR in versione olio su tela per 13 milioni di dollari è uscito sui giornali anche questo qualche mese dopo hanno fatto una fotografia di altissima risoluzione e hanno suddiviso il dipinto in 10 mila quadranti un 100% come se fossero dei pixel un po' più grandi chiamiamoli così questi 10 mila quadranti sono diventati gli NFT che sono stati venduti fra argolette sul mercato principale quindi è stato fatto il mint sul mercato principale per 15 milioni di dollari quindi loro hanno fatto un po' di profitto su questo contestualmente qui c'era forse questo può essere più interessante da un punto di vista diciamo arte e come si preserva l'opera nel senso ok l'opera l'ha comprata Particle la fisica ma la digitale come fa ad avere lo stesso valore dell'opera cartacea o fisica qualcuno ci ha provato distruggendo dando fuoco un quadro di Banksy però è un peccato anche se Banksy stesso ha fatto una cosa simile durante un'asta quindi loro cosa hanno fatto hanno creato una fondazione che è un ente no profit che si chiama appunto Particle Foundation e hanno donato l'opera di Banksy a Particle Foundation e quest'opera è conservata in un cavo e non è accessibile a nessuno quindi la teoria è se non diamo accesso all'opera fisica l'unico modo per poter fruire dell'opera di Banksy è comprando i vari pezzetti sul mercato secondario questo diciamo è quello che si vede su OpenSea forse è un po' piccolo non so se vedete le righe blu le righe blu a croce individuano i quadranti e quando uno acquista l'opera di Banksy effettivamente in questo caso si vede lì in alto a destra quale quadrante si è giudicato chiaramente in questo caso la rarità dipende dal posizionamento del quadrante se becco lo sfondo beh ce ne sono tantissimi se prendo un pezzetto del fiore colorato ovviamente questo sarà avrà una rarità superiore come è andato questo esperimento chi ha acquistato le particelle di quest'opera ha sborsato 1500 dollari ad oggi il floor price quindi il prezzo minimo per poterlo comprare è assolutamente lontano da quello dei Bordei stiamo intorno ai 700 ma questo dipende anche dalla distribuzione della rarità chiaro che prezzi pezzi meno rari a livello matematico ovviamente avranno un valore inferiore poi se le persone l'acquistano per collezionare o per fare speculazione io penso che la risposta ce l'abbiamo quindi questo spero sia stato interessante e volevo giusto ringraziare tutta l'università grazie 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 dottor Malato a questo punto dare la parola all'avvocato Cameriero prego grazie presidente a questo punto cosa dico io la giornata è stata davvero impegnativa e molto molto interessante quindi diciamo che parlare per ultimi è sempre un po' ansiogeno non tanto perché il picco di attenzione dell'uditorio va verso valori numerici non menzionabili ma piuttosto perché si inizia ad essere affamati quindi l'ultimo che parla ha la responsabilità di favorire qualche ritardo sulle bontà culinarie con il rischio di un linciaggio pubblico insomma quindi che mi vedo bene dal da subire vorrei vorrei cogliere diciamo evito di introdurmi in in discorsi e temi che sono stati ovviamente più che brillantemente affrontati prima di me e colgo l'occasione magari per parlare qualche minuto sulla scorta di qualche di qualche suggerimento che mi è venuto soprattutto dalla dalla dottoressa Tecce con riferimento alla chiusura della sua della sua relazione sulle periferie intelligenti quindi entro un po' subito nel come dire nel vivo un po' della mia della mia riflessione per cercare di consegnarvi uno dei temi con cui l'arte oggi si intrama sempre di più nella contemporaneità vale a dire quello delle politiche della città e in effetti per chi come me si occupa di diritto amministrativo soprattutto di smart city e soprattutto diciamo dei temi della rigenerazione urbana l'argomento dell'arte diciamo così l'opportunità dell'arte evidentemente è un tema di grande interesse perché oggi più che mai anche grazie alle tecnologie il mutare diciamo della città fa emergere l'esigenza da parte delle amministrazioni e di coloro che governano il territorio di dotarsi evidentemente di strumenti sempre più appropriati per rispondere alle domande che la città esprime e in effetti la diciamo natura compressa dei problemi della città contemporanea fa sì che le risposte cercate vengano cercate sempre più al di fuori degli strumenti tradizionali della pianificazione urbanistica se si pensa anche al fatto che tutto sommato la legge che governa questo aspetto è una legge molto risalente nel tempo la legge del 42 che diciamo vive di un principio generale che è quello della consumazione del suolo che evidentemente per varie ragioni oggi non può essere più seguita anche e soprattutto per le problematiche di tipo ambientale che tutti conosciamo oggi evidentemente le città che cosa chiedono chiedono una maggiore vivibilità chiedono la possibilità di usufruire meglio degli spazi pubblici della mobilità e soprattutto la partecipazione degli abitanti anche nei processi di riqualificazione e più in generale nei processi di trasformazione urbana ebbene proprio una delle chiavi di lettura che diciamo è possibile usare per guardare a questi fenomeni è sicuramente quello dell'arte ora come questo tema debba essere affrontato anche nell'ottica di un'arte sempre più protesa verso un suo uso digitale abbiamo parlato dei non fungible token è una questione complessa che sicuramente sarà sempre più affinata nel corso del tempo però ciò che è importante che io vi consegno in questo momento almeno dal mio punto di vista è lo strettissimo rapporto che esiste tra arte e città soprattutto dell'arte come leva smartness potremmo dire di rigenerazione tattica della pianificazione urbanistica e oggi più che mai forse è il caso di dire che si è passati da un diciamo così da un momento di favor per l'arte pubblica in senso stretto ad una vera e propria arte sociale intendendo per arte sociale proprio un diverso modo di fare arte nello spazio pubblico che passa prima di tutto dall'idea di un lavoro proprio sulle istanze sulle esigenze di chi la città la abita quindi per ritornare anche a quello spunto che mi ha lasciato la dottoressa Ticce con riferimento a quella citazione di Achille Bonitoliva beh all'interno di quel sistema oltre a diciamo in media le gallerie forse oggi più che mai può proprio entrare in gioco la stessa città lo stesso spazio pubblico che diventa una come dire opportunità di allestimento per l'arte in un'ottica di rigenerazione del territorio quindi l'arte e come dire la città e l'arte interagiscono sempre di più appunto soprattutto sul fronte delle città della città del futuro per ricostruire quelle relazioni quelle complessità di relazioni e ambienti opportunità che in alcuni contesti cittadini evidentemente sono stati sono stati particolarmente trascurati e forse qui parlavo con Guido ieri l'esperimento che lui ha fatto va proprio in questa direzione quella del broccolo presentato in un mercato ortofrutticolo di una città come Voghera dove appunto l'artista provocatoriamente con un solo gesto ha da un lato come dire allargato immediatamente proprio lo spettro di bellezze che evidentemente quel mercato pure suscitava perché evidentemente il prodotto artistico messo nel cesto insieme ai broccoli ortaggi veri ha confuso il generale con il particolare per certi versi ma allo stesso tempo forse l'artista ha voluto anche esprimere provocatoriamente anche l'esigenza di una democratizzazione della società verso come dire una sorta di istanza per un'uguaglianza compiuta per cui quell'oggetto era un oggetto messo a disposizione tanto della persona più umile quanto della persona evidentemente più dentro questi meccanismi anche se vogliamo più elitari dell'arte e in effetti perché l'arte oggi diciamo trova sempre più un suo coinvolgimento nelle politiche di trasformazione urbana perché è vero c'è il tema che citava il professor Heinis stamattina della promozione della cultura però c'è anche tutto il tema costituzionale del governo del territorio e se vogliamo l'arte oggi trova un suo agio in questi processi perché differentemente dal passato non solo riesce a trovare la spinta di sostegni da parte della committenza pubblica e a maggior ragione oggi della committenza privata ma soprattutto perché a mio avviso diventa sempre più un'arte almeno in quest'ottica diciamo di utilizzo come leva operativa di rigenerazione urbana un'arte sociale un'arte di scopo un'arte strumentale in una stretta relazione di mezzi fini per cui diventa un'arte che si pone diciamo degli obiettivi significativi di politiche urbane e quindi da questo punto di vista sicuramente quello che visto che oggi abbiamo anche un po' onorato Guido Iannuzzi quello che io vedo diciamo anche nella sua diciamo nel suo modo di fare arte vedo anche come dire una poetica che per dirla con un linguaggio dell'amministrativista è una poetica procedimentalizzata dove ogni fase come dire del suo pensiero trova un momento di compiutezza in vista appunto del raggiungimento di un determinato risultato quindi l'artista è quello che fondamentalmente oggi deve sapere ascoltare interpretare la città e quel patrimonio immateriale che genera tradizioni consuetudini contraddizioni appuntamenti e chi più ne ha più ne metta perché l'obiettivo è proprio quello di riaccendere valori prima che luoghi per cogliere proprio dire quella fluidità del presente in un contraddittorio sempre vivo con la solidità del passato e quindi in una composizione che possa essere quanto più diciamo possibile originale e stimolante di contemporaneità dialettica pertanto diciamo per chi si occupa anche di chi si candida diciamo così a sviluppare coordinare un processo di rigenerazione urbana deve saper appunto ascoltare questo panorama vasto e molteplice di significati per favorire quel processo di interdisciplinarietà a cui oggi pure si è fatto cenno perché solo in questa relazione interconnessa nelle sue varie dimensioni della contemporaneità si può concretizzare se vogliamo un autentico sviluppo civile in un continuo e vitale divenire detto questo diciamo così da un punto di vista come dire di visione programmatica e di politica delle città volevo semplicemente consegnarvi due spundi su qualche dato tecnico piuttosto diciamo di natura normativa di iurecondito di iurecondendo sul tema appunto della rigenerazione urbana nella normativa italiana beh diciamo che sicuramente il punto di riferimento di partenza è l'articolo 117 della nostra Costituzione che stabilisce che il governo del territorio rientra nelle materie di legislazione concorrente per cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le regioni possono legiferare rispettando per quando statuito dalla Costituzione da altre leggi statali dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali però al di là di questo quello che è importante sapere è che una vera diciamo normativa in tema di rigenerazione urbana oggi in Italia non c'è a dispetto di un diciamo così di un disegno di legge molto bello e interessante che sembrerebbe essere come dire stato per usare un linguaggio forse poco accademico ma fortemente castico affossato dalla ragioneria dello Stato qualche 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 mese fa perché particolarmente oneroso per le nostre casse comunque un disegno di legge secondo me sul quale vale la pena varrebbe la pena di ritornare perché tra le sue finalità ne aveva talune particolarmente importanti e secondo me molto in linea con i tempi ve ne cito soltanto alcuna per chiudere quella di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e aree produttive quello di in vista della sostenibilità ambientale di favorire la sostenibilità ecologica quindi la presenza di aree verdi alberature e l'incremento della biodiversità negli ambienti urbani quelle che oggi vengono comunemente chiamate le nature basic solution ridurre evidentemente i consumi del suolo i consumi idrici e poi una cosa particolarmente importante quello di favorire la partecipazione attiva degli abitanti nella progettazione della gestione dei programmi di intervento e questo diciamo per il collegamento con l'arte è un tema particolarmente secondo me una finalità molto interessante da guardare con favore e anche se diciamo non ce la troviamo più in questo decreto che speriamo possa essere rimesso in pista gli addetti ai lavori stanno facendo di tutto per far sì che possa possa ritornare l'attenzione su questo provvedimento certamente lo abbiamo ce lo siamo ritrovati nell'ultimo nell'ultimo decreto sul nuovo contratto sul nuovo codice degli appalti pubblici il 36 del 2023 di aprile che entrerà in vigore diciamo entrato in vigore ad aprile ma che diciamo sarà operativo da luglio e che diciamo ha messo al centro al di là di altre importanti novità due secondo me elementi che possono contribuire a sempre più a favorire questo collegamento tra arte e politiche della città che sono i partenariati pubblico privati che sicuramente vengono guardati in questo codice con particolare favore e quello del diciamo dibattito pubblico che è un istituto del tutto nuovo che è stato diciamo introdotto anche nel nostro codice mi fermo qui perché abbiamo fatto abbastanza tanto grazie grazie a Luigi Cameriero il tema dell'arte e rigenerazione urbana meriterebbe un convegno apposito e adesso le parole conclusive del professor Carleo prego grazie le parole conclusive che ovviamente sono rinviate allo scritto al numero della rivista diritto d'economia dei mezzi di comunicazione che sarà appunto dedicato a questo tema che spero possa raccogliere le tante suggestioni che ci sono state oggi io non posso fare delle conclusioni posso a quest'ora soltanto ringraziare ringraziare tutti perché abbiamo sentito parlare lingue diverse secondo me la multidisciplinarietà come abbiamo detto tutti si è rappresentata per i diversi punti di vista che sono stati rappresentati per le tante suggestioni proprio per i linguaggi che hanno avuto poi un picco mi pare anche in questa ultima sessione da parte degli esperti che ci hanno suscitato almeno a me che non sono un esperto di questa materia tante domande quindi io potrei fare tante domande ma non le faccio le rinvio il dialogo continuerà posso dire che solo una voce è mancata la voce che è mancata è quella il protagonista assente è la piattaforma digitale la piattaforma digitale purtroppo non c'è stata sarebbe stato interessante ascoltarla noi in verità abbiamo cercato di invitarne una proprio perché chissà se ed è una domanda con la quale concludo se questo l'avvento l'irrompere di una piattaforma digitale generale non renda questi NFT probabilmente più facilmente accessibili abbiamo ascoltato che oggi si acquistano solo da parte di addetti ai lavori solo attraverso criptovalute quindi è molto complicato e per invece potrebbe cambiare molto la diffusione attraverso una piattaforma magari generalista rivolta al pubblico qualsiasi che possa accedere a questi nuovi strumenti e fare un ulteriore passaggio nel ringraziamento non nomino nessuno ma voglio ringraziare le uniche persone che menziono perché per dare la voce che hanno avuto e che avranno sono gli studenti perché nel questionario che abbiamo indicato nella locandina ci sono delle domande molto generali che sono ancora accessibili restano accessibili alle quali chiunque può rispondere proprio per dare voce a tutti e per considerare quelle che sono le impressioni di chiunque altro voglia contribuire a questo dibattito e che cercheremo di raccogliere anche come dato statistico per vedere quello che è la percezione del mercato digitale dell'arte di cui abbiamo cercato di parlare soprattutto dal lato estrinseco più che da quello intrinseco grazie a tutti allora arrivederci e alla prossima puntata grazie a tutti Oh, oh, oh